Ok signori, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', ciao Irene, ciao Patrick, ciao David, ciao Gumming, ciao Mariel, ciao Enrica Maria Merlo, che se ricordo giusto sono una corsista nuova, non mi ricordo più, ciao Licia, ciao Federico, allora vediamo un pochino. Oggi abbiamo due esercizi, intanto carico la schermata, allora, 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 questo, un secondo, capo alla schermata, 36, ci siamo, è lui. Allora oggi due brani come sempre, poi io mi sembra di aver finito i brani, che siano finiti i brani, perché abbiamo soltanto spazzatura che è stata tolta dalla selezione in quanto non ne valeva la pena, quindi in teoria questa è l'ultima volta che possiamo fare l'editing, se non vi decidete a mandare qualcosa che non sia scritto palesemente senza aver neanche capito cos'era il corso base. Poi sono scelte personali e se volete mandare dei brani inutili, perché non avete studiato, non avete letto, non avete capito e quindi mandate delle robe che non verranno scelte, lo sapete perché basterebbe studiare il corso base, leggere le opere per capire cosa viene scelta e cosa no, o semplicemente guardare gli editing precedenti, poi è una scelta vostra, secondo me perdete tempo quando mandate un brano che sapete a priori e in modo non opinabile che verrà non scelto e lo mandate lo stesso, il risultato cos'è? Che è stato un mese, due mesi, tre mesi, poi dico sono finiti i brani, non è passato il vostro e quindi non l'hanno scelto, non mi sembra intelligente, però capisco che magari non è esattamente quei parametri dell'intelligenza che si decide di mandare un brano palesemente in idoneo. Però sono gusti personali, eh? Allora, ciao Francesco, sì sono ancora palindrome ovviamente, assolutamente sì, quindi questi sono gli ultimi due brani che abbiamo, non mi sembra ci siano altri disponibili, abbiamo alzato un pochino il tiro, quindi se già prima i brani erano molto migliori a quelli di qualunque altro video di editing live o di editing con brani appunto, di cose non pubblicate, che conoscevo sia in inglese che in italiano, e adesso abbiamo alzato ancora un po' il tiro, perché dopo che ne avete fatto una trentina con un livello che era già più alto di quello di chiunque altro, a questo punto abbiamo detto, ma sì, ma facciamola ancora più alto questi cazzi, tanto se volevano un livello molto alto, ma un po' più basso di quello che potremmo fare, ne hanno già tipo 60 passabrani, quindi dalle ultime due esercitazioni abbiamo alzato il tiro, due o tre abbiamo alzato il tiro, e quindi adesso i brani devono essere un pochettino meglio di come erano prima, ok? Per dire la volta scorsa ho fatto passare quello in terza persona perché era interessante per fare alcuni commenti eccetera sulla terza, ma di base sarebbe stato un brano un po' lì, sul passare o meno, ok? Bene signori, se non avete qualche domanda particolare, qualche dubbio particolare, qualche richiesta particolare, io inizierei con i brani, così vediamo che cosa abbiamo stasera, e in futuro ci ingegneremo con altre cose, comunque vorrei fare anche dei live diversi, come vi dicevo, devo fare una di aggiornamento sui nuovi video del canale, vediamo se fa la martedì o martedì ancora dopo, insomma vediamo se è il prossimo o quello ancora dopo, vorrei farne delle altre con delle persone interessanti per parlare di argomenti diversi, però devo appunto in un caso leggermi un libro che mi hanno regalato, perché poi sono a buona idea magari utilizzare quel libro, poi vi dirò che qual è, vi dirò qual è in futuro, e un'altra invece sarebbe interessante, ma devo aspettare che apra quel canale, perché è un canale che si deve avviare, che ha argomenti interessanti, e però devo vedere quando si avvia, per contattare la persona e decidere magari di fare una leva assieme, ok? Poi sto tirando fuori altre idee per altri argomenti, per fare sempre degli editing, ma magari non con brani che avete mandato voi, perché magari la qualità non è abbastanza buona, e quindi vediamo un pochino, ok? Bene. Perché non vale la pena fare gli editing con brani di qualità simili a quelli che usano altri canali? Ci sono già gli altri canali che portano brani di qualità mediocre, visto che noi abbiamo la possibilità di selezionare di più, perché in effetti i nostri utenti mandano dei brani nettamente superiori a quelli di altre persone, e allora non ha senso che noi ci prendiamo anche gli altri, no? Tanto vale fare soltanto i migliori. Ok, direi che possiamo partire, visto che non vedo arrivare vostre domande, quindi, tac, no, questo, sì, perfetto. Primo brano. Allora, mi verso un po' di orribile acqua tonica. Bene. Riviste segretarie e laringoscopia. Bello. Sarà almeno un'ora che sto aspettando, non ne posso più. Cerco una posizione che non mi uccida la schiena. Impossibile. Queste sediacce imbullettate al muro, fatte di plastica puzzolente, le dovrebbero rendere illegali. Annoiato, mi guardo un po' attorno. Le sale di attesa sono davvero tutte uguali. Anche in questa le pareti sono dipinte di quel celeste cielo chiaro chiaro. Manco ci fosse un solo imbianchino in tutto il mondo. Il mio sguardo si incanta sulla parete appena imbiancata. Che poi non è così male. Sarebbe anche un colore rilassante. Se solo non fosse che tra poco, bene che vada, avrò a che fare con un tubo di un metro e mezzo ficcato in gola. Inghiottisco la saliva accumulata. Questo impedirebbe anche a un monaco zen di rilassarsi. Sento quella solita angoscia arrivarmi sotto al cuore. Per adesso sto leggendo frasi che dimentico un secondo paolo e le lette. Siamo nella fiera del nulla. Angoscia arrivarmi sotto al cuore. Tale costo. Sospiro e chiudo gli occhi per un attimo. Finirà anche questa prima o poi. Qualcuno riesce a ipotizzare per quale motivo siamo nella fiera del nulla? Che poi sarà il macro errore su cui commentare tutto questo brano. Una goccia fredda di sudore mi scende giù dalla scella. Che fastidio. La blocco strizzandola col gomito. Non è mica finita qui. Le pareti celesti sono solo l'inizio. Non so neanche cos'è le maiuscole. Mi chiudo in avanti verso la pila di riviste posizionate al centro del pancale di legno che fa da comodino. Ah che dolore la mia schiena. Sembro proprio un vecchio di 80 anni. Ne prendo l'adozione e le poggio sulle ginocchia. Ecco adesso se controllo troverò di sicuro quella dell'anax che per esempio ne passo la scegna giusto un paio. Infatti eccola qui. Anax numero 23. Cosa che non vogliono dire nulla. Cosa che non vogliono dire nulla. Analizzo la copertina. Un ex obeso con il dito fa il gesto dell'ok. Seduto di fronte ad un bicchiere. Vabbè. Questa volta la diofonica ha avuto metterla per davvero. Non gli andava bene il brano della volta scorsa dove dove era giusta. Vabbè. Di tè verde col TH e l'accento. Perché scrivi così? Perché non puoi scrivere in italiano? Tè non ha l'H. In inglese oppure non ha l'accento. Cioè scegli tu. Di tè verde ha un cestino pieno di cracker che paghiano più asciutti della sabbia. Cioè quando uno scrive tè con l'H e l'E accentata sembra uno uscito agli anni Ottanta. Cioè c'è una grafia ormai riconosciuta e nessuna persona che beve il tè scriverebbe tè con l'H. Non è semplicemente un termine accettato. Sarebbe come dire ma non conosco il settore. Nel mio settore computer si scrive con la K e la H. Vabbè. Nel tuo settore siete stupidi come delle merda e dovete morire. Cioè cosa vi devo dire? Accettatelo. Sopra c'è scritto cosa mangiare a mai più l'ingrassare. Tanto con il più con due lettere minuscole apposta. Che titolo idiota. Cerco di abbassare di uno step il mio grado di cattiveria verso il mondo. Forse hanno soltanto adotto male. Non è che cambia molto la realtà. Blablabla. In realtà vabbè. Tanto non c'è assolutamente niente. Non so se tu farsi da tagliare. Dov'è l'azione? Dov'è la scena? Dov'è la percezione? Cosa è caso? Continuo la mia ricerca. Tra poco potrebbe apparire per esempio puntini punto attaccato alla caccia in nord Italia. Che è sta roba pure? Non sai che i tre puntini sono un segno di interpunzione? Tipo virgola punto, punte virgola, tre puntini. Funzionano che si attaccano alla parola prima. Fanno spazio rispetto alla parola dopo. Quindi? Perché qui no? Prendo Anax e la metto in fondo, la pila, mai più, mai più. Che cazzo è la pila, mai più? È scritta come un titolo, come se fosse la caccia in nord Italia o Anax. Ah ok, cosa mangiare? Am mai più l'ingrassare. Ok, che titolo idiota. In fondo la pila, mai più. Boh, insensato. Ricomincia a scorrere qua no, questo no, sono dei puntini attaccati. Eccola qui trovata, non c'era la capacità di usare la maiuscola. Con cinque o sei posizioni di ritardo non l'abbiamo trovata. Di che sta parlando? Non capisco neanche in italiano cosa voglio dire questo testo. Il prossimo, la voce della segretaria mi arriva dritta dal cervello. Stavolta è venuta direttamente in sala a chiamarci. Non l'aveva notata dietro al sepoio del suo ufficio, che figa. Ok, questo brano che Davide inizialmente non voleva selezionare, infatti l'aveva messo in dubbio, se ricordo giusto, è interessante perché ha un solo errore fondamentale. Non è scrittura immersiva. Non sei immerso nel personaggio. Questo è un ammasso di commenti inutili. Dov'è la percezione? Dove sono i fatti? Non c'è niente. È un insieme di pensieri, a caso. Non è la percezione soggettivizzata. Sono pensieri senza la percezione. Cioè, perfino quando deve semplicemente guardare le riviste e vedere dei dettagli, ne passo un rassegno a giusto un paio, infatti eccola qui, Anax numero 23, analizzo la copertina, un ex obeso. Ecco, arriva ai dettagli, ma nel contesto dei suoi pensieri. Analizzo la copertina. Non deve analizzarla, faccela vedere. Che poi mi faccio tutta la sabba, so perché cosa mangia, ma più l'ingrassare. Questa parte, per esempio, è dei pochi momenti in cui vediamo qualcosa. Ma è tutto un ammasso di pensieri raffazzonati in cui cerca di far passare la percezione del pensiero invece che unire il pensiero alla percezione. Poi vabbè, secondariamente non è un errore di scrittura, nel senso che non c'entra quella scrittura immersiva pura, è un ammasso di lamentele. Quindi rivediamo dall'inizio. Sarà almeno un'ora che sto aspettando, non ne posso più benissimo. Dove siamo è che è il protagonista. Non pervenuto. Cosa devi fare all'inizio? Far capire dove siamo, farci vedere dove siamo, farci capire chi siamo. Cerco una posizione che non mi uccida la schiena. Non rispetta. Devi fare questa cosa. Ti sembra intelligente mandare un bannico e non lo fai? Abbiamo detto ripetutamente in Eppini e le precedenti che devi fare questa cosa, farci vedere subito dov'è, farci capire dov'è, in modo che possiamo immaginare dov'è, e in modo che una volta che immaginiamo dov'è, possiamo proseguire immaginando il resto? Vedete quando vi dico che non avete neanche capito cos'è la scrittura immersiva in questi casi? Non sappiamo chi siamo e non sappiamo dove siamo. In che modo questo ti fa ritenere di essere immerso in qualcuno di cui sappiamo la sua collocazione specifica, perché essendo lui sappiamo che cazzo sta facendo e dov'è, che cosa vede? Cioè in che modo il non ti sembra il sì? Cioè ma ci arrivi col cervello? Cioè a livello di disperazione avrei vedere dei test scritti in questo modo? Qui, cerco una posizione che non bocce la schiena, benissimo. Che posizione era, scusa, quella di sta uccidendo la schiena? Perché mica l'hai detto che è seduto, hai detto che sta aspettando. Eh, genio. Impossibile, vabbè. Queste sediaccia embullettata, ora capiamo che era seduto, perché non ce lo dici prima? Tanto lo capiamo ipotizzandolo. Il fatto che ci siano delle brutte sedie imbullettate al muro, come dice lui, quindi imbullonate, immagino, imbullettate, imbullonate, non vuol dire che ci sia seduto. Lo deriviamo noi. Questa cosa può andare bene, però devi formulare diversamente tutto. Fatte di plastica puzzolente, dovrebbero rendere illegali, lamentela. Quindi, non ne posso più lamentela, che non mi c'è la schiena impossibile, lamentela. Fate la lamentela. Abbiamo una lamentela poi di singola frase. Perlomeno fino ai legali, poi dopo non so. annoiato mi guardo un po' attorno, annoiato, anche qui, devi mostrarci la noia, non raccontarcela. Ma ci arrivi che una persona è annoiata perché vive la noia, e non perché dice noia? E non è scrittura immersiva, se tu dici annoiato. Tu vedi una persona felicissima, che saltella in giro, manza zucchero filato, gioca a calcio, e ride con gli amici, a un certo punto dice, sono annoiato. Ti sembra annoiato? No, è vuoto, quindi non dire annoiato. Non serve. Mostra che è annoiato. Ci stavi invece mostrando in modo, tra virgolette, se lo stai più che altro raccontando quei pensieri, ma facciamo finta che lo convertiamo in una scena corretta, ci avevi a questo punto mostrato in modo efficace il fatto che lui è dolorante, stanco, infastidito, non annoiato. Tutto il pezzo prima si poteva sposare col fatto che magari stava leggendo, guardando video, mentre aspettava. Non era annoiato, ma gli faceva mai la schiena, magari, ok? Annoiato, mi guardo un po' attorno. Anche qui, ma perché anche queste due parole sono attaccate? Cioè, qui siamo anche a un livello che non è anche quello di dire se hai scritto l'inversione o non farla, neanche soltanto fare, boh, premere spazio, correttamente. Le sale d'attesa sono davvero tutte uguali. Bene, se le sale d'attesa sono davvero tutte uguali, ma mica l'abbiamo vista questa. Cioè, lui ci dice che sono tutti uguali ma non l'abbiamo vista. Prima ci fai vedere una sale d'attesa standard, poi ci commenta in una sale d'attesa standard. Cosa ci vuole? Anche in questa le pareti sono dipinte di quel celeste chiaro, chiaro, manco ci fosse un suono in bianchina e se ne frega. Il mio sguardo si incanta sulla parete appena imbiancata. Perché? Che senso ha questa cosa? Che cosa vuol dire? Ha appena detto che è una cosa di una noia mortale e non gliene frega niente, sono tutti uguali e il mio sguardo si incanta. Perché? Cioè, questa frase ha un significato che si avesse detto improvvisamente che delle tartarughe collavano dal soffitto e poi smettesse di parlare all'improvviso. Cioè, è una roba vuolta senza significato. Perché si incanta? Si è appena lamentato di queste pareti appena imbiancate e ora le trova incantevoli. Che poi non è così male, stare bianco un colore rilassante se sono forse che tra poco bene che vada avrò a che fare e ci racconta 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 roba. Anche qui, perché lo sta raccontando a noi che avrà un tubo in gola? Devi avere una percezione o un pensiero che permetta di ancorarti per darci questa informazione ma svegliati, no? Qui ho un problema proprio di non sapere come si vive la propria vita. Cioè, non avete idea di quando i vostri pensieri iniziano. non avete idea che un pensiero può essere evocato da un altro pensiero o da una percezione e che scrittura immersiva voglia semplicemente riprodurre lo stesso meccanismo. Non è che un pensiero scatta a caso senza un legame. Questo del colore rilassante è una puttanata. Sei tu che stai raccontando cose perché non conosci il personaggio e non sai di cosa stai parlando. Avrebbe potuto prendere una rivista che a un certo punto trattava di un qualcosa e quel qualcosa gli evocava l'idea di doversi far mettere il tubo di metra e mezzo in gola per la come si chiama? La ringoscopia. Benissimo. Oppure poteva pensare direttamente all'appuntamento per qualche motivo perché appunto è un sacco ma ci arrivate col cervello signori è un'ora che sta aspettando vuol dire che sono in ritardo o lui è il più grande imbecille della storia cosa probabile perché da come si lamenta continuamente è sicuramente una persona miserabile che fa una vita miserabile ha una mente miserabile ed è incapace di fare qualunque cosa per stare meglio nella propria esistenza perché le persone che si lamentano sono dei miserabili intellettualmente punto non c'è altra scelta la lamentela implica che non avete un rapporto sano con voi stessi con la vita e con i processi di pensiero quindi vuol dire che tipicamente avete magari una vita che per una persona sana mentalmente sarebbe bella ma per voi è una schifezza perché non sapete gestirla questa è l'essenza la maggior parte delle persone sono infelici non perché abbiano una vita infelice ma perché hanno i processi mentali sbagliati nessuno gli ha mai insegnato come si pensa e quindi rendono la propria vita infelice quindi questo personaggio è un miserabile mentalmente quindi potrebbe essere anche che magari per infliggersi più sofferenza ha sbagliato l'ora ed è arrivato in anticipo può essere però dacci un qualcosa è un'ora che sta aspettando vogliamo creare un minimo di empatia un qualcosa togliere la mentele è un'ora che sta aspettando ma gli è arrivato puntuale è colpa loro e a questo punto gli può pensare al fatto che è un incontro di lavoro e che anche se l'aveva messa a grande distanza dalla cosa sempre che sia fattibile non so quanto sia invasivo nella lingoscopia e quanto una persona può aspettarsi di essere K dopo l'evento non ho idea facciamo finta che se un intervento c'è un controllo che non ti manda K dopo l'evento lui aveva messo magari con notevole distanza un incontro di lavoro ma adesso che un'ora che sta aspettando non sa mica più se farà in tempo a tornare in ufficio a fare tutto quindi abbiamo un disagio e questo può far pensare direttamente dal fatto che gli metteva un metro e mezzo in gola e perfino l'incontro con che cazzo ne so con i rappresentanti della fabbrica Tal Detali di Potefone a videoconferenza con con rappresentanti in Italia della Disney che cazzo ne so per un progetto di un fumetto e lui è abituato a lavorarci e sa che è come lavorare con i rappresentanti di qualunque altra casa editrice capiscono niente sono noiosi eccetera eccetera e ti sembra di parlare se sei un esperto con dei ritardati succede con qualunque ma ho sentito cose su ADC Comics uguali quindi qualunque grande conglomerato grande casa tipicamente c'è qualche piccolo appassionato e una massa di ritardati quindi facciamo che deve fare deve sentire che ne so è un fumettista e deve sentire la DC Comics deve sentire perché è un disegnatore deve sentire la Disney deve sentire qualcuno per un progetto e già pensa che è una rottura di coglioni e che magari in fondo al confronto anche un metro e mezzo di tubo in gola sa una cosa più interessante oppure l'opposto ti inventi qualcosa cazzo ci vuole veramente un secondo a pensare a una scusa per fare in modo che lui pensi a ciò che deve fare adesso cioè la reingoscopia letteralmente quello che ho fatto cos'è vivo sono ormai 39 anni che vivo quindi so come funziona la vita perché ho idea del fatto che sono 39 anni che ho dei processi di pensiero scatenati da altri pensieri e l'ho applicato in narrativa ci voleva tanto se l'autore ha più di tre anni ha una valanga di esperienze per poter fare la cosa correttamente quindi perché non l'ha fatto perché non ha pensato in termini di scrittura immersiva ha pensato faccio un blog con un tizio che si lamenta come se fosse un blog invece di essere il personaggio collocato in un luogo che percepisce e che soggettivizza eccetera eccetera anche qui senza neanche aver capito come funziona bla 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 questa minchiata puoi anche fare direttamente cioè senza con uscire la teoria generale si può anche studiare per adattamento che è una cosa che insegno nel corso avanzato è nelle lezioni nuove che devo sbloccare vi faccio la sintesi veloce qui e non vi spiego poi però come si applica davvero cioè vabbè ve lo spiego in modo sintetico poi troverete la spiegazione e la tecnica esatta da applicare nel corso nel corso avanzato tu puoi imparare per adattamento anche se non hai studiato il mio corso puoi semplicemente leggerti l'opera di Vaporteppa la tua mente si abitua che è quello il modo in cui si scrive resetti i propri processi mentali sulla scrittura adattandosi a quelli tu invece di imparare la scrittura immersiva ti adatti alla scrittura immersiva e in modo automatico produrrai un testo basato sui criteri della scrittura immersiva a fine semplice è lo stesso motivo per cui non so per imparare una lingua straniera invece di passare tutto il giorno parlando in italiano con i tuoi amici e poi ti stupisci cazzo ho parlato in italiano tutto il tempo con i miei amici e questo non mi ha fatto migliorare nel mio cinese mandarino te ne vai magari in Cina o in Inghilterra visto che c'hai trafista d'inglese tipicamente andate in Inghilterra e stai 24 ore al giorno sentendo solo persone che parlano in inglese e questa cosa caso strano visto che le lingue in realtà non si impara ma ci si abitua o caso strano stando magari un mese in Inghilterra sentendo 24 ore su 24 solo in inglese mentre studi anche naturalmente la lingua inglese tu impari molto più in fretta che parlando sempre in italiano incredibile guarda che la scrittura funziona uguale non c'è un modo che impariate la scrittura se lo affrontate come gli italiani che per imparare l'inglese passano tutto il tempo parlando italiano e pensando che parlare italiano gli faccia imparare l'inglese arrivateci eh e che ha scritto questa cosa palesemente o non legge scrittura immersiva o non ha capito che le cose che legge sono reali o magari anche stupido che ne so però voglio dire ha scritto delle fatte di una certa complessità anche se certe volte non sa primary space non penso che sia Forrest Gump sa una persona normale con dei enormi blocchi cognitivi e problemi cognitivi su fare il passaggio tra scrivere un diario lamentoso e fare scrittura immersiva ok signori bla 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 tanto scusa ma la laringe non sta qui cioè vabbè tubo di un metro e mezzo è un'esagerazione ovviamente cioè sembra che devono fargli la colonoscopia passando alla bocca figa inghiottisco la saliva accumulata questo impedirebbe anche a monaco zen di rilassarsi perché questo cioè inghiottire la saliva impedirebbe anche a monaco zen di rilassarsi cosa vuol dire sta roba pensavo che fosse di dover pensare alla laringoscopia che non sembra piacevole sia la cosa che impedirebbe anche a monaco zen di rilassarsi non questo che in italiano è inghiottisco vabbè sento quella verbi di percezione giusto me le ho dimenticate abbiamo pure verbi di percezione sento mentre invece dopo con il post e l'analizzo non è tanto un verbo di percezione ma una cosa sì oddio un verbo di pensiero percezione anche quello è vero messo così analizzo la copertina guardo il post sì in effetti vabbè quindi abbiamo vari verbi di percezione almeno due sento quella solita angoscia arrivami sotto al cuore tra le costole sospiro e chiudo gli occhi per un attimo finirà anche questo prima o poi lamentare 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 vedete che non c'è percezione non c'è qualcosa di interessante di vero cosa abbiamo fino adesso il nulla cosmico le pareti celeste chiaro chiaro chi se ne frega nulla da vedere nulla di interessante ah no giusto ci sono le sedie che lui racconta nei suoi pensieri perché non le vede le sta raccontando nei pensieri queste sediacci embolettate al muro fatte di pasta cappuzzolente dove rende illegale ok ma non le stiamo vedendo è lui che le sta pensando cioè anche non capisce la differenza tra percezione e pensiero l'autore queste sediacce non sono magari tipiche sedie da strada attese magari scriccoano potrebbe muoversi visto che si annoia sta cercando di cambiare posizione e fai scriccoare la plastica mai detta di queste sedie e a questo punto ti colleghi col pensiero ok oppure lui vuole spostarsi perché dice magari lui si china l'indietta e sbatte con la testa contro un muro vuole semplicemente poter si chinare senza sbattere vuole spostare la sedia ma sono in gruppi di 7 e 8 attaccate al quelle aste di metallo e imbullonate alla parete manco può spostare il gruppo cioè cazzo cosa ci vuole se qualunque idiota in un minuto può pensare alle istruzioni che la persona ha collocato in questo testo vuol dire che la persona non si è occupata di questo testo per niente io sto leggendo un testo imbarazzante che mi annoia in modo incredibile e mi arrivano le soluzioni in un secondo pensa se questo testo mi piacesse e mi interessasse e fossi quindi l'autore forse anche l'autore fa schifo visto che non mette nulla di interessante né un dettaglio interessante né niente non c'è manco conflitto c'è solo una grande lamentela cazzo perfino se lui avesse sottolineato che stavo aspettando un'ora perché era in ritardo ed era in ritardo per la conferenza per l'incontro per qualcosa per andare a prendere figli a scuola che cazzo ne so avremmo avuto conflitto un conflitto contro il tempo qui non c'è conflitto c'è lui che si annoia ma a tutti effetti ha tutto il tempo del mondo terribile ah poi c'è questa parte bellissima non è mica finita qui le pareti celeste sono solo l'inizio michio in avanti verso la pia di vista e poi tratta al centro la pancale di legno che fa da comodino pancale di legno che fa da comodino cosa vuol dire sta roba vabbè vabbè pancale di legno che fa da comodino qui c'è proprio dobbiamo immaginare un pancale di legno siamo all'Octoberfest ed è coperto di riviste va bene è un po' strano rispetto alla normale sarà d'aspetto immaginare un pancale di legno però immagino che vada bene fammi cercare pancale di legno forse ho interpretato male Google non è d'accordo su idea di pancale ma obblighiamolo Google o mi mostra dei bancali perché ritiene che pancale o paletta sono espressioni italiane che indicano i bancali quindi quelle basi di legno per i muletti su cui ci stanno le cose encilofanate da trasportare oppure mi mostra appunto le classiche tavolacce con assi per sedersi da Oktoberfest da da giardinetti cioè da giardino di quelli per i picnic eccetera però di base un pancale anche per Van Merlein un pancale è il bancale quindi bellissimo addirittura ho scoperto che pancale non è neanche così chiara come sembrava a me che a me sembrava indicare proprio una roba e invece dobbiamo apprezzamente immaginare una roba da picnic o addirittura un bancale di quelli carichi di scatroni a scatone di libri encilofanati o di mobili di qualche posto contenitori vari è un bancale di bottiglie di Heineken evidentemente chi lo sa bene bella questa cosa che ho scoperto che adesso che pancale in italiano indica anche il bancale vabbè vabbè arriva alle riviste ecco ad esempio se controllo troverò di sicuro quella della Anax ecco adesso se controllo troverò di sicuro quella dell'Anax per esempio non capisco anche in italiano cosa vuol dire questa frase ne prendo a dozzina e le appoggio sulle ginocchia ecco adesso se controllo manca una virgola troverò di sicuro quella dell'Anax per esempio quella dell'Anax cosa per esempio quella dell'Anax che ha un articolo sulla lingoscopia o che cosa quella dell'Anax dell'Anax ha una una rivista dell'Anax un numero dell'Anax ok ma perché questo pensiero idiota ne prendo a dozzina e le poggio sulle ginocchia gliele fai scorrere una dopo l'altra e trova quella dell'Anax ne prendo a dozzina e le poggio sulle ginocchia le scorro eccolo qui ecco qui quella di Anax una cosa così oppure le preleuzioni le poggio sulle ginocchia le scorro le scorro e prelevo Anax numero 23 metto le altre a posto sul comunino o butto le altre in terra o me le ficco nel buco del culo e me le giro cioè ma perché usare i pensieri in questo modo disfunzionale solo per rendere complicata e pena di ambiguità linguistica la lettura a inizio a copertina abbiamo detto che va oltre il border è veramente un verbo di pensiero sbagliato che non va bene un ex obeso con il dito fa il gesto dell'ok seduto di fronte a un bicchiere di tè verde con l'h e un cestino come Samantha con l'h solo che Samantha con l'h esiste tè verde con l'h è una roba di analfabeti una roba da confezione di tè scrausi negli anni 80 anche comunque trovate ancora il tè con l'h però di solito senza l'accento in certi supermercati come se non sapessero come funzionano le lingue italiane che tè si scrive tè apostrofo cioè tè accento è un cestino pieno di cracker cosa mangiare mai più l'ingrassare non ho capito perché questa rivista l'impaginato con la iu anche qui perché iu minuscola che senso ha attira molto l'attenzione oltre al fatto che anche sta cosa maiuscola attira l'attenzione non c'è un motivo che titolo idiota cerco di abbassare la mentele ricordiamo che la mentele sono continua non mi viene anche a sottolinearle tutte sono praticamente una per frase no beh ma l'ultima non è una per frase guarda queste frasi non c'hanno la mentele cerco di abbassare di uno step il mio grado di cattiveria verso il mondo forse l'hanno solo tradotto male non è che cambi molto in realtà quindi cosa è servita tutta questa roba pensiero inutile sul fatto che comunque non cambia quindi perché questo sottrae tempo e spazio a una storia basata sul conflitto dove qualcuno vuole qualcosa a qualcos'altro gli si oppone e questo qualcuno si trova in un luogo ben collocato con caratteristiche eccetera e questo luogo ci permette di fare la soggettivizzazione cioè perché non c'è narrativa vabbè il resto è inutile a stare a rileggere l'abbiamo già visto ah no giusto torniamo sugli errori alla fine sul grande monoerrore di questa storia cioè il fatto che l'autore pensa che i pensieri siano sconnessi alle percezioni o che i pensieri sostituiscono le percezioni il prossimo la voce da segretario mi arriva dritta nel cervello anche qui perché scusa è minuscola ti sembra un dialog tag ma svegliati stavolta è venuta direttamente in sala a chiamarci anche qui il salio non dover usare gli avverbi in mente perché gli avverbi in mente quasi mentre poi tutte quelle cose che sono inesistenti nell'atto dell'esistere non esistono in quanto non si trovano nell'esistere non è difficile ok si trovano nel pensiero benissimo ma è messo una roba che uno non significa niente la differenza tra è venuta in sala ed è venuta direttamente in sala eh niente non vuol dire nulla quindi uno in italiano questo direttamente è un errore in sé in quanto inutile quindi non si mette perché viola l'eleganza è ovvio seconda cosa visto che ci parla di è venuta in sala è collegata a movimento è collegata all'azione quindi in teoria dovrebbe essere una cosa in cui stai parlando di movimento non pensiero sul soggettivizzante cioè non pensiero astratto tipo mi viene in mente no non mi viene in mente un cazzo di esempio perché gli avverbimenti sono una tale merda che mi ha mente di rifiuto e quindi non mi vengono neanche gli esempi con gli avverbimenti mi sono sgocciolato un po' e quindi niente è una merda e basta quindi abbiamo una persona che ho neanche cercato di avervi in mente prima di mandare il testo interessante come mai gli sape una cosa intelligente di aver fatto una cosa simile comunque questo testo era interessante per farvi vedere un caso in cui non avendo capito cos'è la scrittura immersiva ci si limita a pensare che la scrittura immersiva è fare un gigantesco flusso di pensieri invece che essere collocato all'interno di un individuo che vive nello spazio e nel tempo e che vivendo nello spazio e nel tempo ha una percezione e soggettivizza perché ha una mente ciò che percepisce fine un flusso di pensieri a caso non è narrativa immersiva chiaro? bene quindi un esempio di un tempo interessante per portarvi una cosa che di solito non vedete questo tipo di errore non mi sembra che l'abbiamo già affrontato e basta perché per il resto non è interessante ok? ora vedo i vostri commenti poi passiamo al prossimo brano che invece è un brano interessante a livello di scrittura e di altri errori ok? vediamo un po' i vostri commenti ho i baffi troppo lunghi mi danno fastidio che poi mi finiscono davanti in una rotta di coglioni allora vediamo la noia mi sembra l'unica cosa che sarebbe trasmesso esatto solo che invece di trasmetterci la noia del personaggio ovvero in un testo che in sé è emozionante e interessante in quanto basato sul conflitto noi percepiamo la noia del personaggio non vuol dire che noi dobbiamo annoiarci anche la noia può essere interessante ovviamente è difficile e quindi non dice perché visto che già non sa iscrivere neanche di una persona in un luogo addirittura cerchi di comunichare la noia non si sa però dove si chiede all'autore perché ha fatto questa cosa allora perché di annoiato farlo sbuffare poi da lì puoi partire a pensare eventualmente questo c'è nel corso base sì esatto tutto già spiegato sono proprio una roba la persona ha letto il corso base se ne fregate si è messa a scrivere come pensavo non devi pensare pensate perché pensate è inutile tanto quando pensate o pensate giusto che vuol dire che pensate ciò che è già scritto nel corso sbagliate perché se pensate una cosa che è l'opposta di quanto detto nel corso vi state sbagliando quindi non pensate cosa vi serve vi ha mai aiutato nella vita a pensare no no ve lo assicuro io nella mia vita non sono aiutato dalla vera opinioni mi sono aiutato dalla vera e fatti non è che se io penso una cosa questa cosa ha un senso se io penso una cosa devo verificarla perché devo capire se è reale le opinioni i pensieri sono un problema sono al massimo uno spunto per scoprire delle cose non sono un vantaggio non pensate signori questo ha pensato che si scrivesse così quando invece poteva verificare come si scrive e fare il testo giusto invece ha pensato e ha mandato una merda che però aveva questo errore interessante appunto del pensare che la scrittura immersiva sia un flusso di pensieri invece che percezione in vita reale quindi che è interessante come errore c'è una roba che secondo me è al di sotto è al di sotto degli standard mentali di chiunque di voi c'è una roba che non dice come ti può essere venuto in mente però visto che gli è venuto per un qualche miracolo strano comodo da sapere se qualcuno di voi è così pazzo da pensare che la vita sia un flusso più di percezione utile ma il suo sguardo si incanta per idea che è attratto da una specie di vuoto credo e invece racconta che il suo sguardo si incanta dovrebbe fissare la parete non deve raccontarci che il sguardo si scanta dobbiamo percepire che si incanta come lo percepiamo mostrando come nella realtà ciò che avviene è sempre così quando mi chiedete come si fa X la risposta è nella realtà com'è benissimo fallo come nella realtà e tu dici non so come nella realtà vuol dire che sei ignorante vuol dire che non devi scriverlo se non lo sai quindi se non sai comunicare il senso di come una persona può perdere il suo sguardo nel vuoto fissando una parete non scriverlo nella realtà com'è comincia a guardare la parete vai sovra a pensiero fissi la parete sguardo perso nel vuoto sei concentrato sulla parete non ti accorgi del resto arriva la persona che ti chiama non ti sei accorto perché sei preso ai tuoi pensieri fissando la parete e quindi i pensieri si alternano ai dettagli della parete che tu continui a fissare guardando la rugosità guardando la macchia di muffa che si è formata magari che ha tirato il tuo sguardo la realtà cazzo è esattamente come nella realtà e per sottolineare e per sottolineare che si è perso nei suoi pensieri arriva un rumore improvviso qualcosa improvviso di cui non si accorge e viene avvisato che c'è stato quindi una persona che l'ha chiamato non l'ha sentito arrivano gli spiazzano davanti signore signore tutto bene e lui a questo punto gli stodio lo sguardo e può avere un pensiero sul fatto che era così così incantato dalle rugosità della parete eccetera eccetera da una verba da una verba data a queste minchiate fine eccolo qua sì 20-30 centimetri sembra dolorosa come cosa cioè non sembra una cosa bella da fare quindi mettere e mezzo era ovviamente un'esagerazione a parte raccontarci l'attesa le potete dire perché sta aspettando mostrando qualcosa intorno e facendo di fare qualcosa di concreto sì non c'è un cazzo di niente è la fiera del nulla cioè prende giusto in mano una rivista riesce pure a sbagliare quando la prende cioè a scrivere perfino sbagliata la frase in cui prende Anax dal mix di riviste è in un ospedale ambulatorio in cui va sempre può anche essere giusto visto prima che si presenta e si capisce la terza ok i tre puntini non sono stati trasformati nel carattere tre puntini lì non posso farci niente se l'autore non sa usare word io copio incollo e basta non mi vado uno per uno anche perché ho avuto correggere il suo la trasformazione automatica tipicamente su word la fai quando clicchi spazio e a questo punto lì in automatico trasforma i tre puntini e il carattere dei tre puntini e l'autore non ha ritenuto idoneo alla propria dignità principesca farlo evidentemente tutto molto bello ecco esatto bravo ad esempio perché deve fare questa laryngoscopia ci sarà un motivo no eppure lui non ci pensa cosa deve indagare questa roba qui perché la sta facendo e se non ti viene in mente un motivo perché dovrebbe farla metti qualcos'altro magari ha timore di avere un tumore nell'intestino e fa una colonoscopia o come cavolo si chiama avrà paura di avere un tumore che gli fa pensare al fatto che nella sua famiglia non so sul lato materno hanno avuto un sacco di tumori sia che gli sono risolti niente sia benigni sia gente finita male ci metti il nonno che è morto per un tumore all'intestino ci metti sta roba qui cosa ci vuole tra l'altro in un secondo è fatto anche background sul personaggio come crea il background di un personaggio che ha una famiglia con una grande casistica di tumori per introdurre il nonno che è morto di tumore da poco e poi la storia parla proprio all'improvviso del fatto che lui non se lo aspettava mai nell'astereditario perché lui non lo sapeva ma nascostamente era il nipote preferito del nonno e quindi in te non si aspettava perché il nonno ha dei figli finiscono a lui la cosa cioè vedi che in due secondi puoi creare tutta quanta la storia partendo da uno che va a fare un controllo e poi scopre di non avere niente o scopre di avere qualcosa ok anche questa è un'ottima idea si potrebbe fare si potrebbe lo specializzando di primo anno a primo mese di specializzazione ah ok chi potrebbe fare la laryngoscopia malissima e fare un malecane sì ok pancale sarà italiano ma non lo sopporto io ero convinto che fosse anche chiaro cos'era pancale poi ho scoperto che non lo era infatti pancale è l'ultimo dei problemi uno potrebbe dire anche il primo dei problemi perché il test è tutto sbagliato ma le poche volte che c'è qualcosa di concreto abbiamo pure scelto una parola ambigua e non si capisce che cazzo è quindi diventa che le poche cose concrete le sedie sto pancale una ma anche concreta di cosa sia quindi pure il problema di visualizzare ah ciao david ecco ti qua se l'autore volesse vedere una scena con una persona in sala d'attesa potrebbe vedere la scena del pronto soccorso nei primi capitoli della mia vita con le blatte giusto me l'ho dimenticato vediamo un po' se ce l'ho la mia copia la mia seconda copia la mia vita con le blatte eccolo qui c'è una scena bellissima di conflitto fatta fatta con i controcazzi col personaggio al pronto soccorso come cavolo si chiama perché se è fatto male non mi ricordo neanche come è nei primi capitoli top che ci voleva quando è uscito quel romanzo è uscito nel 2020 fine 2019 i libriani 2020 vuol dire che sono 20 21 siamo a ottobre del 2022 sono due anni e nove sbarra dieci mesi se consideriamo che il preorder era partito a novembre 2019 facciamo che sono due anni e nove mesi dai due anni e nove mesi che è disponibile uno vuoschievo una scena un pronto soccorso non si è degnato manco di leggere e studiare l'opera di Vaporteppa per mandare l'esempio per mandare l'esercizio quindi ha fatto un esercizio che non rappresenta il suo potenziale di scrittore rappresenta un livello di scrittura che non è il suo perché il tuo livello di scrittura che veramente ti interessa testare è il tuo vero finché non hai studiato non sai qual è questo livello di scrittura che ti serve avere non sto parlando con David intendo con l'autore l'autore che ti serve mandare un testo così questo testo implica che non hai studiato correttamente non hai letto i libri che dovevi leggere per studiare benissimo quindi visto che quelle cose dovrai farle per poter imparare a scrivere prima le fai poi mandi il testo a quel punto avremo un testo che rappresenta veramente i blocchi cognitivi e i problemi di comprensione che hai dopo aver studiato correttamente aver letto poi se ha letto dei romanzi va por te ha provato a studiarli immergendo e ha capito questo sono dei problemi di comprensione gravissimi però do per scontato che la persona non possa avere dei problemi di comprensione così invalidanti ok do per scontato che magari abbia preso la leggera le cose da fare perché se i problemi di comprensione sono di questo livello è un cazzo di problema gigantesco ok comunque nella mia vita con le blatte magari ha letto tutti i romanzi di va por te a meno quello c'è esattamente la scena che volevi vedere il problema è che quella pedana di legno grezzo non è esattamente idonea essere un comodino in una sala d'attesa quanto è larga la pedana di un bancale un metro tipo sono quadrati un metro per un metro non conosco le specifiche tecniche dei bancali quindi per questo vi chiedo cose occhio direi un po' più di un metro o un metro insomma una pedanona bassissima non è esattamente una roba su cui metti chiusi come comodino in una sala d'aspetto cioè devi quasi chinarti a terra boh sono una cosa gigante ma più con la u minuscola perché non riesci a trovare la u accentuata maiuscola e anche la i è diventata minuscola non so per quale motivo su max basta prendere bla 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 esatto anche qui le lettere maiuscole con l'accento signori google lettere maiuscole accento vi danno tutta la sequenza potete anche prenderle incollarle non dovete neanche imparare la combinazione di tasti per windows per linux per mac eccetera eccetera non per inferire però ex obeso è una trappa che ho dimostrato come rappresentato un ex obeso sono riviste semplici è una rivista che parla di diete di diete di disturbi magari alimentari e c'è una persona che classico come rappresentare l'ex obeso c'era il tizio che è diventato l'idolo e il rappresentato di subway mi sembra quelli dei panini che raccontò di aver preso mangiato tutti i giorni da subway subway che cazzo si chiama quelli dei panini e quando lui faceva le conferenze e le pubblicità e cose varie tutte le conferenze si presentava tante volte o facevano foto magari dove aveva i vestiti l'obeso quindi tu vedi i vestiti di una persona che ha perso 150 chi non mi ricordo quant'ava perso tantissimo e poi durante le conferenze mostrava i suoi pantaloni di quando era al massimo del suo peso in questo caso come puoi fare in una rivista l'ex obeso per comunicarlo probabilmente avrà potrebbe avere dei vestiti larghissimi di quando era obeso quindi mostrare l'effetto del ci sono sparito dentro oppure semplicemente una rivista che parla di obesi quella persona non rappresenta una persona che non c'entra niente dovrebbe rappresentare una persona che facendo le cose giuste ha perso peso e quindi lo rappresenti concettualmente traducibile annostamente come un ex obeso ok? la cosa migliore si avrebbe stato rendere la cosa molto più chiara quindi non mi ricordo in Italia non mi sembra siano legali le foto di confronto prima e dopo o forse non sono più legali neanche più nei statuiti non ricordo quelle dove hai magari la foto di lui ciccione e quindi la copertina potrebbe essere lui mega ciccione triste sul divano e poi la foto due anni dopo che è super magro e felice con i cracker e a questo punto è il prima e il dopo e si capisce che è un ex obeso però si capisco il tuo dubbio e un ex obeso è molto un'etichetta intellettuale di chi sta traducendo ciò che vede sapendo come è fatta quella rivista sai che quello lì sopra non è un modello ma è un ex obeso un aggancio visivo aggiuntivo sarebbe stato meglio io avrei fatto probabilmente la cosa della polos barra maglietta gigante quello che paesemente che ci naviga dentro mentre se la tira con un braccio tipo così gigante questo non capisci che o è un pazzo oppure deve significare l'ex obeso con l'immagine ok sì ok esatto pigrizia gaming hai ragione pigrizia ogni livello comunque l'elemento fantastico l'esistenza degli altri arriva troppo tardi per rendere il libro acquistabile non so che cazzo stai parlando come ho fatto a capire che il teso l'ha già detto un altro leggete i commenti degli altri per favore tra l'altro era un commento molto vicino letteralmente ce l'avevi in vista un commento due minuti prima anche l'avevi notato la segreteria dietro al separe perché in effetti era dietro un separe non l'ho ben capita tanto fammi controllare commento su youtube anche l'altro è un commento su youtube quindi si l'ha visto o era visibile ciao martina che era che era amelidro o quello che era il tuo vecchio il tuo vecchio nome su youtube ok bene 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 quindi sei appena partita quindi segnati questa cosa è importante ma poi ti arriva l'avviso ci sono una strea di lezioni che apparevano nel corso avanzato di scrittura alcuni sono esercizi altri sono cose di metodo semplicemente aspettati che entro nelle prossime settimane ti verranno sbloccate varie cose che ti serviranno a capire ancora meglio il corso applicarlo meglio sono diciamo quella serie di cose aggiuntive che mi hanno permesso negli ultimi due anni in due anni in cui tra l'altro ho selezionato diversi autori e diversi autori sono arrivati alla pubblicazione se un corso di scrittura in due anni non produce autori con il livello di motore di vapore vuol dire che forse ha dei problemi classico discriminante in due anni signori arrivate a selezionare a portarli a farli pubblicare i piccoli editori soprattutto non hanno tempi lunghi quindi per dire voglio vedere un corso di scrittura alternativo per fare qualcosa in più oltre al corso del duca ottima idea tra virgolette cioè non è cattiva come idea io vi dico come parametro chi hanno pubblicato benissimo prendete l'opera guardate come è scritta il livello di ciò che imparerete da un corso al massimo è il livello delle migliori opere che i suoi autori possono scrivere se addirittura quel corso non ha prodotto nessuna opera nessun autore fate una seria domanda di quanto è buono ok signori è un po' come la questione di come valutare un editor ok poi magari ne parleremo in futuro di come si valuta un editor e altre cose sia perché ci sono trappole mentali tipo non tutti gli editor scrivono certi editor lavorano soltanto per le grandi case editrici e quindi arrivano dei compromessi su come lavorare ma vi spiegherò questa cosa un'altra volta così capite come funziona ok comunque dicevo in due anni abbiamo ottimizzato sempre di più le cose al punto che adesso le persone arrivano arrivano a un livello di scrittura altissimo se si vogliono impegnare non più come una volta in un anno di tempo poi è diventato un po' meno di un anno adesso abbiamo persone che da livello infimo arrivano a un livello molto alto in tre mesi tutto questo grazie a una serie di cambiamenti di approccio di esempi di utilizzo del corso di approccio proprio mentale al corso a come si fa passare da studio a mi adatto ok da forzo i concetti a vivo i concetti eccetera eccetera che sto integrando in modo più esplicito ancora di più sempre più esplicito nel corso vero e proprio in modo che chi vuole veramente imparare possa avere risultati molto più rapidi prima poi chi se la racconta pensa che se paghi mille euro per un corso allora diventi uno scrittore grazie al cielo queste persone non ce li ho però chi si illude che basta avere un corso per aver imparato no per dire chiunque di voi abbia il mio corso da più di sei mesi e non scrive a livello di venezia metterlo a livello di la mia vita con le blatto a livello da stirpe le ossa sa per definizione che non si sta impegnando proprio a livello pratico non ci sta mettendo il tempo e la fatica oppure sta facendo le cose sbagliate punto perché facendo le cose giuste la prova che si arriva ad un certo livello ad un altro di scrittura c'è non ho mai incontrato una persona che abbia fatto le cose giuste così come elencate così come dette senza avere proprie opinioni su cosa fare le opinioni non vi servono vuote fare giusto punto se la vostra opinione è diversa dal giusto vuol dire che è sbagliata ok quindi non ha senso andare avanti due tre quattro anni che non imparate perché avete opinioni su cosa fare piantatela prendete tre mesi in cui sostituite l'arroganza di avere opinioni con l'umiltà di accettare la realtà imparate a scrivere passate quei tre mesi in cui siete bravissimi a scrivere avete raggiunto il vostro obiettivo avete diritto a tutte le opinioni che volete disfunzionali inutili eccetera eccetera ok probabilmente a quel punto non l'avrete perché il vostro cervello di fronte ai fatti si obbliga alla sconfitta dell'opinione a favore della vittoria dei fatti e la pianta ai dirvi stronzate ok questo è un approccio che poi vedrete spiegato meglio all'interno del corso delle elezioni nuove ok che non esiste che voi state studiando da due anni un corso e non siete al livello dei miei miglioratori c'è sempre sotto un errore metodologico o l'arroganza di sostituirvi al metodo corretto con le vostre idee non è intelligente signori allora ciao varici ciao araci scusa ciao andro ciao andro allora 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 johns dice sono qui scotendo stiamo analizzando un brano che non era un brano particolarmente interessante come scrittura cioè adesso noi selezioniamo brani tipicamente scritti meglio di così ma era interessante perché portava un errore di metodo cioè sostituire completamente la descrizione la percezione che va soggettivizzata ovviamente con i soli pensieri una specie di grande flusso di coscienza in cui si mischiato dentro c'è un po' di robe che assomiglierebbe una percezione più un pensiero della percezione poi lo sappiamo che tutto quanto è pensiero pensato e pensiero della percezione come commento dentro un pensiero pensando a quelle cose invece che percepisco queste cose e le commento è una specie di paradigma opposto ok e quindi stavamo spiegando perché fare così produce un tipo di narrativa che non è immersiva ed è anche difficile comprensione e lettura ok tutto molto bello insomma spero che sia stata chiara la spiegazione ok ah ok a Tommaso è piaciuta molto la scena dell'ospedale della mia vita con le blatte ottimo se voi avete problemi a rappresentare il conflitto la noia le rotture delle palle i fastidi eccetera in una sala d'aspetto la mia vita con le blatte è un esempio grazie Marco 120 per 80 chissà perché avevo in mente che fossero quadrate ma è perché non ci sono abituato cioè le poche volte che le vedo o sono cariche di oggetti o sono in contesti confusi tipo al supermercato che magari stanno spostando roba o in certi negozi e quindi non ci bado ai dettagli grazie mille 120 per 80 al bancale grazie non è un comodino ecco bastava un normalissimo tavolino invece di parlare di pancare e altre cose bastava un normalissimo tavolino ok normalissimo proprio bastava dirlo invece tavolino lo capiamo no sappiamo come è fatto il tavolino piccoli tondi quelle cose magari 30 centimetri di diametro quelle cose quadrate 30 per 30 40 per 40 quelle robette lì si capisce oh sì quello sì li ho visti ho visto robe carine ciò non toglie che mettere un pancale così puro a caso qualunque cosa voglio dire pancale che sia una panco che sia un bancale all'interno di una sala d'aspetto che dovrebbe essere una sala d'aspetto standard uguale a tutte le altre fatte in fotocopia o nel masseo io ho visto abbastanza sali d'aspetto e vi assicuro che non ci sono né bancali da magazzino né panche modello oktoberfest quindi non è esattamente lo standard di una sala d'aspetto ciao Giorgia ti si era bloccata la chat mi spiace fatto sbaglio o no niente sto pensando al fatto che forse hai cominciato a fare video in cui parli di libro o cose simili su instagram non mi ricordo più no magari ti confondo con qualcun altro ero capitato su qualcuno dei miei corsisti vagando a caso su instagram io prima ho rifatto il corso bai senza alcun avanzato eh well ex no giusto scusa un attimo poi passiamo al prossimo brano eh signori sono un po' scazzato perché il primo mi era serbato interessante da proporre però in effetti alleggerlo proprio così porca troia che rottura di coglioni well ex allora tu mi hai scoperto immagino dopo l'offerta del compleanno giusto quindi non hai potuto comprare l'offerta del corso avanzato in tempo e dopo te l'abbiamo chiuso in faccia senza tanti complimenti se questa è la tua situazione scrivi a ufficio che ho c'è ad usos punto it e diglielo sono proprio gli ultimi giorni in cui posso farvi fare questa cosa eh sono gli ultimi perché dopo vi arriva arriva una riapertura pensata per questo caso ed è diversa da quella del compleanno tra parentesi costa di più sull'offerta massima ed è combinata diversamente sulle due altre due offerte quindi se l'offerta del compleanno ti piaceva in particolare ti interessava l'accademia educale contatto all'ufficio sono proprio gli ultimissimi giorni perché poi tra una settimana in pratica una settimana e qualche giorno partiamo con l'offerta nuova e quindi non proponiamo più quell'altra opzione non è così perché è vero riaperta in via eccezionale perché sono in ritardo di un mese passa sui lavori e visto che non posso farvi perdere tempo e farvi buttare la vita in attesa che arrivi un corso che non sta arrivando perché l'espansione è in ritardo allora abbiamo deciso di fare la riapertura straordinaria fino a quando non parte quella riapertura e quindi la riapertura straordinaria avete la possibilità per chi mi ha scoperto in ritardo esclusivamente per loro di accedere a questo acquisto diciamo ritardatario ok diversi di voi hanno già approfittato della cosa tra agosto settembre e appunto inizio ottobre è una cosa proprio in via eccezionale ma è colpa mia avrei dovuto avere tutto il materiale per ripartire con proprio tutto già fatto pronto a fine settembre e ho avuto ritardi quindi tra traslochi e altre cose ho fatto casino mi spiace il compenso però ho reso più interessanti ho ampliato ancora di più le lezioni che volevo aggiungere solo che questa ha aumentato i ritardi ho acquistato la seppellossa con il link che è indicato non è stato possibile la spiegazione di alcuni capitoli ti arriverà il link da hackeron tra un po' di giorni il tempo di tagliare i file ho dei rumori ambulanze cose varie devo fare delle modifiche i file tagliarle finire gli ultimi video con l'analisi quindi a parte le spiegazioni capito l'analisi della raccolta sfondazione si appunto caricarli a quel punto io scrivo a masa il capo redattore sbarra tutto fare sbarra eccetera eccetera capo insomma di hackeron books e lui vi manda a quel punto a tutti gli acquirenti del cartaceo a quel link fatto entro il 7 ottobre eccetera eccetera vi manda il link di dove andare ad accedere per avere le lezioni chi ha fatto l'acquisto per tempo e lo comunica all'ufficio è arrivato già una quarantina di mail con la prova di vendita eccetera se siete i miei vecchi clienti ci fidiamo insomma va bene però se mettete la prova è meglio e avrà anche tutto quanto sbloccato in libreria quindi semplicemente se hai fatto l'acquisto correttamente devi solo aspettare una settimana circa una settimana circa ed è tutto pronto ecco se non ci sono casotti improvvisi c'è sempre da imparare a seguire dirette come questa oddio Andrew guarda a me sta a dire come sta avvenendo questa live non piace per niente perché l'errore è un errore banale capisco che non l'abbiamo visto altre volte ma è una merda è deprimente mi fa venire in mente soltanto pensieri terribilizzanti come commento porca troia questo non c'entra col testo Drogia dice non ho capito la faccina del lei in inglese sono protagonista americano devo assolutamente del tu non ho capito cosa intendi comunque no scusa c'è una parte in cui viene spiegata la questione delle traduzioni lei tu ed è spiegata nel dettaglio nel corso avanzato di scrittura quindi se hai un dubbio su come rendere da un testo inglese o con personaggi inglesi la questione del lei tu è spiegata lì dentro come lo fanno con anche l'esempio mi sembra di come in Charles Dickens i personaggi tendenzialmente si chiamano signor, signore eccetera quindi l'equivalente del lei in inglese tante volte è semplicemente sottolineare il titolo onorifico quindi mister quindi signore eccetera ok c'è comunque la spiegazione dettagliata che era tratta da un sito che parlava di traduzioni non mi ricordo se avevo messo anche un link o se avevo messo tanto la spiegazione in non mi ricordo che lezione del corso avanzato la trovi lì dentro quindi ma questo con la live di adesso quindi te la becchi lì ah come insomma la risposta in pratica è come parlano per davvero quelli che parlano in lingua inglese la risposta è lì dentro fine per davvero ok semplice no bene comunque è un box che ho inserito in una lezione in cui c'era il problema il problema il problema ah sì i ritardati che pensavano vi fosse la questione del lei tu in assault feri se è vero la gente è così sceba che diceva non è possibile fare alcun e non capivano che quello essendo di italiano era la traduzione di un equivalente che probabilmente in inglese non si rendeva con media del lei eccetera eccetera ma con appunto mi chiami miss o cose simili cioè quelle robe lì quindi gente che non sa come funziona la traduzione quindi non capiva che se il testo è in italiano non possiamo scrivere una specie di calco letterale dell'inglese è stupido cioè volendo si poteva anche fare una cosa accettabile su quella direzione ma la versione italiana di quella cosa in inglese era questa come anche se un inglese prende quel test e lo traduce la sua versione sarebbe quella culturalmente loro ok chiaro no e sì era qualcosa a soul phase poi se mi viene il dubbio se nel corso avanzato di scrittura o se in quello di sceneggiatura credo scrittura nella parte sui termini e cose varie comunque quella a soul phase era pieno di cose da aggiustare secondo me ve ne ho parlato nel corso avanzato quindi il desueto to questo me l'ero perso THO per indicare il te totalmente perso meno male è veramente orribile to il to beh c'è anche quello che fai che è molto interessante se puoi mantenere l'attenzione pubblica usare il linguaggio verbale non verbale e paraverbale hai voglia di imparare ah il fatto che ho praticamente l'alzheimer senza avrei neanche 40 anni mi dimentico le parole mi impappino uso le parole in modo sbagliato ma voi vi convincete che questa è una combinazione artistica perché sono tipo una persona molto raffinata in realtà semplicemente confondo comodino con lampadino non esiste lampadino confondo comodino con pompino e torino con tombino e allora vi sembra interessante il mio linguaggio ok no però in realtà semplicemente credo di avere una malattia degenerativa nel cervello e basta sono tipo geriatrico a 39 anni una cosa simile però mi fa piacere che venga percepito come una raffinata scelta verbale non verbale quella roba lì ah e anche qui io gestito io gestico in realtà faccio movimenti molto ampi ma il parkinson come Giovanni Paolo II semplicemente li facciamo e invece li faccio più ampi ma non gesticolo per fare non verbale e parkinson bene sì poi c'è quell'artistica la seconda persona singolare inglese che non c'entra niente col discorso del tu del lei del voi che altro che era proprio la cosa la cosa ritardata che dicevano quelli commentando a Solferi dicevano in inglese non c'è X perché per rendere quello sarebbe ma che cazzo satadino vedete conto che le persone non parlo all'amministratore delegato di un'azienda come se fosse al pescivendolo il fatto che usano l'unico comprensivo non è quella questione perché loro trattano il resto usando ad esempio altri titoli e poi tutta gente che è abituata da sempre a vedere manga e anime e non si sono accorti degli onorifici in giapponese e che gli onorifici sono anche nelle nostre lingue boh sono quelle cose misteriose no? bene ottimo l'adorazione del duca è sempre cosa giusta però se smetti di adorare il duca e ti concentri soltanto sulle lezioni è ancora meglio perché mettetela così il duca ha sempre ragione tranne quando ha torto e visto che nelle lezioni metto le cose giuste almeno possiamo evitare le volte che ho torto e quindi nelle lezioni ho soltanto ragione quindi siamo a posto tipo oggi ho detto un sacco di vagonate di minchiate però e che sono rintronato e mi ha messo di brutto umore a questo bellissimo testo bene comunque grazie del commento positivo e divertiti col corso naturalmente allora vediamo il prossimo esercizio finalmente quello bello tra virgolette quello interessante spero pronti? bene abbasso la torcia e illumino gli stretti scalini di pietra vedi? concreto abbasso la torcia e illumino gli stretti scalini di pietra la sposto a destra un mura con vistose macchine umite e calcinacci sulla sinistra un corrimano di legno spaccato in più punti e fissato con che da rugginiti allora lo leggo tutto e poi lo commento la cantina è stata abbandonata da diversi anni l'agenzia ha avuto culo a trovarla oppure finalmente hanno iniziato a svolgere bene il lavoro questo vedete che è un pensiero proprio finalmente perché non è oppure hanno iniziato a svolgere bene il lavoro ma va a sottolineare che questi qua non facciano mai un lavoro bene e allora finalmente è vero che è sempre superfluo ma va a calcare maggiormente la mano sul fastidio di un'agenzia comunque cosa sia questa agenzia che lavora da merda ok Mario fa attenzione qui manca una virgola perché così è Mario fa attenzione cioè stiamo dichiarando che Mario è uno che fa attenzione mentre invece serve Mario fa attenzione virgola la voce mi arriva ovattata dal piano di sopra ci mancava solo ipocrisia di Luigi a farmi compagnia e il braccio destro del boss sarebbe dovuto scendere lui questo è un uso abbastanza fantasioso delle virgola tra virgola mancanti virgola a caso qui o prima su qua poi dopo la vediamo nel dettaglio porto una mano accanto alla bocca tranquillo è tutto sotto controllo alzo il tono per farmi sentire beh potrebbe dire dire direttamente che grida porto una mano accanto alla bocca e grido tranquillo è tutto sotto controllo scendo un gradino alla volta come la temperatura mi appoggia il corrimano passo dita nei lunghi solchi i legni sono lisci chissà quante mani hanno visto e qui la frase è mozzata così ok altre frasi scombinate con le virgola a caso alla fine della scala un odore forte di uomo e qui invece manca alla fine della scala un odore forte di uomo marcio mi dà il benvenuto l'umidità mi entra fin dentro le ossa qui altre cose sconclusionate l'umidità non c'entra con l'odore mi illumino la parete di fronte dove giacciono cumuli di scatoloni di cui il cartone ormai marcio collassano uno sull'altro sarà collassati uno sull'altro no? mica collassano adesso appoggiate alla parete di sinistra ci sono degli scaffali appoggiate alla parete di sinistra ci sono degli scaffali c'è una cosa maschile appoggiato al femminile appoggiate alla parete allora ci sono degli scaffali scaffali maschili o sbaglio lo scaffale gli scaffali poi se lui si sente donno ovviamente lo chiameremo al femminile però se lo scaffale non ci dice il suo interesse dovremmo usare in teoria il neutro che in italiano il neutro è reso col maschile tra virgolette o meglio il maschile è reso col neutro in realtà però poi diventano discorsi grammaticali che sono finezze inidonee quando la semantica viene usata per motivi ideologici e politici invece che per motivi linguistici e quindi ci sono le persone che si inventano in maschile e femminile quando abbiamo il neutro e il femminile però va bene altrimenti come detto le questioni ideologiche hanno una sola vittima che è la verità cianfrusaglie bla 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 libri di varie dimensioni e colori dischi piccoli elettrodomestici il proprietario aveva qualche problema compulsivo sempre virgola così a caso è come un elenco ci sono cianfrusaglie libri di varie dimensioni e colori dischi piccoli elettrodomestici il proprietario aveva qualche problema compulsivo ecco se non è fatta gli oggetti abbiamo il problema compulsivo il tostapane i dischi costeggio le scale il pavimento ha un'inclinazione cosa vuol dire in italiano l'inclinazione verso un tombino costeggio le scale il pavimento ha una inclinazione che inclinazione artistica poetica verso un tombino posizionato al centro collegate con rose intende che il pavimento che il pavimento è inclinato verso il tombino posizionato al suo centro quindi il pavimento tipo ogni lato è inclinato verso il centro quindi vuoi proprio dirlo se vuoi i lati i pavimenti eccetera eccetera però dillo il pavimento ha un'inclinazione ma intanto non ne ha una ha diverse inclinazioni visto che vanno modello a raggera verso il centro come un imbuto vabbè illumino la parete dietro le scale completamente sgobbo un'area già mi sbatte contro il viso arriva da quel muro tutte queste fasi così sconnesse con la virgola invece del punto o dei due punti o di altre cose perché ma scrivi in italiano no? poi tutto di fila perché volete separate ma da scosseggio le scale a muro era tutto di fila cazzo c'entra anche qui bastava leggere l'opera di Vaporteppa per non scrivere così non sono scritte così quindi non puoi per definizione imparare a scrivere così leggendole perché la tua mente nell'adattarsi alla loro struttura al loro uso della descrizione eccetera non essendoci mai questo uso e queste cose ti impedisce di poter fare questa cosa non è difficile cioè non è non c'è sta roba che tu stai in mezzo agli inglesi a parlare l'inglese 24 ore su 24 e magicamente hai imparato il cinese mandarino eh allo stesso modo non puoi imparare a scrivere così se passi il tempo leggendo le opere di Vaporteppa consigliate non le altre quelle consigliate non il ninja morbosamente obeso di Mellick Tartum che anche nelle vecchie edizioni non è neanche più non è neanche con Acheron solo quelle indicate nell'apposita cazzo di lista che avete a cui devo aggiungere la stripa delle ossa giusto non l'ho ancora aggiunto mi fermo riprendo fiato illumino il soffitto dove pendo mi fermo riprendo fiato cosa c'entra illumino il soffitto con mi fermo e riprendo fiato non vedi che sono concetti diversi ma ti svegli dove pendo ragnatelli imperlate da insetti in decomposizione al centro una corda con l'estremità una lampadina ci dovrebbe dai vedi quale handicap mentale bisogna avere per scrivere in questo modo tutto virgoli a caso invece di pensare il corretto flusso della percezione dei pensieri della grammatica italiana anche mi fermo a riprendere fiato mi fermo con le mani sui ginocchi mi fermo chino con le mani sui ginocchi a riprendere fiato fosse un po' esagerato non stava correndo illumino il soffitto come? la torcia o qualcosa l'abbiamo visto prima se sì puoi dire semplicemente illumino altrimenti fai vedere come lo illumina ok tipo punto la torcia dello smartphone sul soffitto ok sul soffitto sul soffitto sul soffitto la cui pendo ragnateli per latenza di decomposizione punto al centro una corda con le qui manca il verbo al centro una corda con l'estimità lampadina verbo al centro una corda cosa? c'è una corda al centro? al centro pendo una corda? i verbi esistono signori virgole a caso ed omissione dei verbi grande il massimo non avverto nessuna vibrazione c'è bisogno di un innesco qui cosa che non vuol dire nulla per noi il problema noi siamo il personaggio non vuol dire nulla per noi vuol dire non vuol dire nulla per il personaggio quindi lui sta dicendo cose che non significano nulla per lui ma perché? mi metto la torcia tra i denti ok avevo una torcia me l'ho dimenticata quindi qui non dice la torcia smartphone dice la torcia o anzi semplicemente abbiamo già visto la torcia dice il lumino nel soffitto e va bene semplicemente mi separi le frasi sempre se abbiamo veramente visto la torcia prima ma credo di sì mi metto la torcia tra i denti sbottono il posizione della camicia rotolo la manica mi tasto anche sbottono il polsino ma serve dirlo? mi metto la torcia tra i denti e rotolo la manica della camicia fino al gomito che cazzo ne so fatto che ci va a dire che sbottoni il polsino micro azione perché? a che punto ci dici anche una per una tutte le pieghe che fa e poi ci spieghi come fa l'ultima per rincalzarla senza che si sciolga tutto cioè a questo livello di idiozia mi tasto a lunga cicatrice non c'entra niente con lo sbottonarsi il polsino rotolo la manica va in un'altra frase mi tasto a lunga cicatrice che mi percorre tutto l'avambraccio avambraccio vuoto di memoria con la n o con la m chi se ne frega sotto le dita il pulsare sotto le dita il pulsare sotto le dita cosa ha il pulsare il mato del cuore cosa? verbo che manca al solito una persona che non si è accorto che in italiano ci sono i verbi è grave questa cosa signori intera livello mentale è grave non accorgersi che questa frase non significa nulla significa solo perché nella nostra mente ci obblighiamo proprio perché il nostro cervello è obbligato a cercare un senso nelle cose a mettere il verbo mancante ma manca io dice ma se metto il verbo mancante la frase non mi piace e non scriverla no idiota cosa ci vuole sei obbligato sicuramente così fa schifo e non significa nulla dalla tasca laterale del jeans sfiro un coltellino svizzero apro la lama un riflesso mi acceca apro la lama un riflesso mi acceca per un attimo ti acceca un riflesso di cosa? è una lama che cazzo di riflesso ti può accecare stronzata e poi non è un riflesso sarebbe il riflesso sulla lama roba scritta a caso di un italiano non pervenuto chissà se sto tremando per l'ansia o perché qui la temperatura è bassa ma non stavi tremando voi avete visto i tremori non erano qui se tremava prima non me ne sono accorto anche perché è un testo che si dimentica mezza frase dopo in quanto scritto a cazzo ho la pelle d'oca mi concentro fissando mi concentro fissando la punta della lama che è avvicino al polso una lieve pressione alla mente la carne si apre e anche qui ho la pelle d'oca non c'entra niente con il resto è tutto quanto a cazzo frasi mischiate con le virgoli invece di separarle ho la pelle d'oca punto fine fisso la punta della lama che è avvicino al polso e fai capire che si concentra ok per esempio puoi dire che cosa vuol dire mi concentro che vuole fare l'azione non deve concentrarsi ma deve fare l'azione mi concentra anche sbagliato cosa vuol dire più che altro lui vuole non bloccarsi e non portare e non non portare a termine l'azione quindi riuscire a portare a termine buh c'è gente confusa che scrive in modo confuso ah e questo tra l'altro era passato pure vabbè comunque qui per la meno abbiamo degli errori più normali tipo l'incapacità di gestire le virgole e cose di questo tipo ora lo rileggiamo e vediamo gli errori ecco come dice Monica molto sconnesso sì è tutto a cazzo di cane proprio ma anche qui è una persona che non ha capito se è una narrativa immersiva ma ti sembra che scrivere in modo sconnesso rappresenti veramente la nostra percezione ordinata e ben rappresentata nel modo in cui una singola cosa dopo no hai fatto l'opposto perché cazzo l'hai fatto come ti è venuto in mente i testi che dovevi studiare per poter scrivere l'esercizio non sono così quindi hai venuto in mente di farlo tu sono tutti scritti in modo diverso l'uno dall'altro e nessuno è così perché non si scrive così cosa ci vuole abbassa c'è la torcia qui fantastico quindi l'illumino va bene abbasso la torcia e illumino gli stretti scalini di pietra fantastico punto chiudi questa cazzo di frase ok la sposto non serve se tu la muovi figa se tu stai usando una torcia per illuminare è ovvio che la muovi non è che rimani fisso così e poi rimane fisso fino a quando muori di neglia che cazzo vuol dire ma svegliati abbasso la torcia e l'illumino e stete che scalini di pietra due punti a destra un muro con vistose macchine umite e calcinacci sulla sinistra un corrimamo di legno spaccato in più punti e fissato con chiudere te ci voleva se vuoi scrivere con i due punti cioè dire cosa elenco di cose conseguenti in italiano si fa due punti elenco di cose conseguenti se non vuoi fare due punti elenco di cose conseguenti non scrivere quella formula in italiano ma non esiste che tu la scrivi e poi togli due punti e metti una virgola svegliati abbasso la torcia e poi due punti e c'è la sequenza non la volevi fare non la facevi l'hai fatta falla giusta la cantina è stata abbandonata da diversi anni la cosa lo deduce semplicemente potrebbe essere vecchia non vuol dire che si è abbandonata no l'agenzia ha avuto culo a trovarlo oppure finalmente ha iniziato a svolgere bene il lavoro cosa che non sappiamo cosa vuol dire durante tutto il testo quindi cosa a caso non siamo nel punto di vista perché non sappiamo cosa sta facendo perché svegliati tu sai cosa fai bene quindi per rappresentare la vita dobbiamo sapere cosa fai perché bene non lo sappiamo quindi non rappresenta la vita quindi non è scrittura immersiva ma è tanto difficile questo concetto cioè vi è tanto difficile capire che se dovete rappresentare la vita così com'è dentro un punto di vista dovete semplicemente rappresentare la vita così com'è dentro un punto di vista non è banale questa cosa perché questo significa che essere un punto di vista vuol dire la vita e la vita è quella che vivo io e quando vivo vuol dire che continuamente c'è un motivo di conflitto continuamente so cosa sto facendo e perché continuamente vuol dire che quello deve esserci in narrativa se non c'è vuol dire che per voi è difficile questo concetto oppure che non siete in grado di capire come vivete cioè non vi accorgite che quando fate una cosa con un obiettivo voi sapete quell'obiettivo quello che state facendo può essere stupido o sbagliato ma lo sapete noi non lo sappiamo qui quindi vuol dire che non rappresenta la vita non è difficile signori cioè un testo scritto così in questo modo lo potrebbe scrivere solo una persona a patto che veramente si sia impegnata a rappresentare la vita così come la vive solo una persona che continuamente si trova in luoghi in cui non sa perché si trova a fare cose che non sa perché le fa così all'improvviso cioè con la persona che un attimo prima sta scrivendo al computer l'attimo dopo è lì che sbatte gli occhi e si trova dentro un supermercato con una bottiglia di latte in mano e non sa perché lo sta facendo a meno che voi non viviate questa dissociazione queste continue boh memoria che vi svanisce o momenti in cui agite la vostra mente non se ne accorge eccetera non potete scrivere in questo modo pensando che questo rappresenti la realtà perché la vostra realtà evidentemente o vivete in quel modo lì o non è questa Mario fa attenzione vabbè qui è lui che non sa usare le virgole la voce mi arriva avattata dal piano di sopra ci mancava solo l'ipocrisia di Luigi a farmi copia cos'è l'ipocrisia di Luigi perché Mario fa attenzione se è l'ipocrisia è un avvertimento un'ipocrisia svegliati e il bacio destro le bossa è voluto scendere lui cosa c'entra non è che se ti dice di stare attento l'ipocrita cosa cazzo c'entra qui anche non sapere il senso delle parole in italiano porta una mano accanto alla bocca e anche tutto quanto sgrammaticato come scritto anche qui i due punti sono i due punti la virgola la virgola se tu vuoi fare una frase fondata su due punti ovvero cosa spiegazione guardo due punti elenco ci mancava solo lui l'ipocrisia di Luigi ci mancavano solo i consigli di Luigi a farmi compagnia due punti e il braccio destro del boss è voluto scendere lui che in realtà è uno spiego di merda in ogni caso almeno quei due punti ha un senso e poi perché se lui il braccio destro del boss è dovuto scendere lui proprio se uno è in alto nella scala gerarchica non fa i lavori di merda era sottoposto del cazzo questo è un pensiero prova a mettere in un altro posto un tizio che dice eh siamo noi soldati semplici in trincea invece dei generali che dovrebbero esserci no non devono esserci loro sono dei manager gestiscono le teste di cazzo ingrate come voi che dovrebbero morire in trincea perché non meritano altro porto una mano beh qui c'è la costa del grito abbiamo già detto scendo un gradino alla volta anche qui scendo un gradino alla volta come la temperatura oh che cosa poetica ma ti sembra una cosa poetica una merda poi tra l'altro non è che scendo un gradino alla volta come la temperatura perché tu non scendi la temperatura è lei che scende non significa niente neanche in italiano come immagine simbolica non significa nulla perché sarebbe scendo un gradino alla volta come scende la temperatura invece è così scendo un gradino alla volta come scendo la temperatura ma tu non stai scendendo la temperatura e poi cosa fai scendi il cane e lo pisci ma ti rendi conto che non significa nulla neanche in italiano quindi piantala di fare il poeta e prima imparare l'italiano ci sono dei corsi per immigrati non importa se sei italiano o madrelinga e stai studiando lettere se hai bisogno di un corso per immigrati vai a fare un corso per immigrati ti insegnano a mettere le virgole e che scendono a temperatura non so neanche se lo accettano a Napoli ok alla fine della scala un odore forte di uomo marcio mi dà il benvenuto l'umidità l'umidità non c'entra niente con l'odore non va nella stessa frase potevi abbinare il freddo che è tattile con l'umidità ma non l'odore di uomo marcio con l'umidità nelle ossa talta umidità che gli entra nelle ossa perché in realtà intendi che gli entra il freddo nelle ossa grazie all'umidità che permette di trasmettere di trasmettere il calore quindi in pratica far cedere il tuo calore corporeo all'aria molto meglio rispetto all'aria secca classico motivo perché se siete bagnati avrete più freddo la temperatura è la stessa ma il vostro corpo cede più rapidamente la sua temperatura perché ha un media l'acqua che è più idoneo perché alla fine l'aria è fondamentalmente un isolante ma avete l'aria nei doppi vetri per quel motivo lì se nei doppi vetri vi considerate furbi e ci mettete l'acqua così occhio non mi sembra una grande idea poi magari c'è un qualche motivo fisico per cui può esserla ma così occhio non mi sembra una grande idea ok illumino la parete di fronte dove giacciono benissimo abbiamo già parlato della torcia quindi va bene e a mezza pagina di distanza ce la ricordiamo è sottintesa quindi ci sta giusto dove giacciono accumuli di scatoloni di cui il cartone ormai marcia anche qui non devi dire che gli scatoloni di cui il cartone ormai marcia di cosa sono fatti gli scatoloni di cartone se fossero di legno sarebbero cassette probabilmente o non lo so ok scatoloni sono dicciate sottinteso di cartone ok qui dilumio la parete di fronte dove giacciono cumuli di scatoloni marci collassati l'uno sull'altro cumuli è giusto vero? cumuli sì sì è giusto sì appoggiate alla parete di sinistra ci sono degli scaffali novinissimo contro la parete di sinistra appoggiata alla parete di sinistra ci sono degli scaffali che arrivano fino al soffitto anche qui potresti fare anche formule diverse la parete di sinistra è coperta di scaffali fino al soffitto fatto ok però va bene fino al soffitto ecco in questi scaffali è pieno di roba in italiano come si rende il contenitore dell'elenco del contenuto due punti oppure punto chiudi la frase perché poi ci sono accatastati bla 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 però anche qui terra terra due punti ci sono accatastati oggetti di vario genere cianfrusaglie oggetti di vario genere che vuol dire? niente cianfrusaglie che vuol dire? niente libri di varie dimensioni e colori già meglio almeno sono libri di varie dimensioni e colori sarebbe meglio essere più specifici ma va bene dischi cosa vuol dire? vinili cd immagino vinili 16 dischi picco elettrodomestici cosa vuol dire? ecco qui è proprio la ricerca del vago ma tu devi essere concreto quindi basta che dai pochi dettagli che evocano il resto ok? potrebbe essere contro quello che è degli scaffali due punti oppure anche punto le mensole si chiamano i ripiani degli scaffali ok i ripiani i ripiani sono sono zeppi di ogni sorta di cianfrusaglia due punti pile su pile di urania ammuffiti un tostapane un tostapane annerito che un tostapane annerito che sembra aver preso fuoco scatole su scatole di lampadine una fune una fune tutta chiazzata di muffa pile di dischi abbiamo fatto pile di libri però va a cambiare lo vari una collezione di dischi in vinile una collezione di dischi in vinile con le come si chiamano le custodie le custodie annerite dalla polvere grigio di polvere ricoperte di polvere non lo so cioè fai un elenco concreto un elenco che rappresenta soltanto una selezione del tutto ma che ci dà l'impressione ok e poi volendolo chiudere e tante altre schifezze che non varrebbero un euro neanche a portarle a un rigattiere a un rigattiere veramente di bocca buona che cazzo ne so ci metti veramente perché è un pensiero a un rigattiere di bocca buona ancora meglio ok proprio il senso del degrado che non è difficile signori cazzo basterebbe essere nel personaggio che non vedrebbe piccoletto domestici non vedrebbe oggetto di vera regione vedrebbe delle cazzo di cose cioè se io ti dico immagina un piccoletto domestico ti hai immaginato un tostapane ti hai immaginato un frullatore ma qualcosa immaginate non potete immaginare un piccoletto domestico come concetto astratto non visibile non è immaginabile e non immaginabile la nostra mente pensa per immagini per chi ha la fortuna di non avere disturbi che ti impediscono le immagini una persona normale se dici non pensare a un elefante rosa pensa a un elefante rosa anche se hai detto no poi se uno ha dei problemi che bloccano la creazione di immagini visive nella mente non so cosa accada se dici pensa a un elefante rosa forse vede le parole elefante rosa non lo so gumming tu che mi hai parlato di questi problemi in passato se ti dico non pensare all'elefante rosa oppure penso all'elefante rosa nella tua mente cosa accade così per curiosità costeggio le scali il pavimento non incaverne abbiamo già discusso già discusso già discusso tutto inutile comunque non c'è conflitto non c'è niente di interessante dice fa' attenzione ma non succede nulla di pericoloso ne temiamo per lui in generale l'unica cosa a notare è che è scritto male senza sapere come vengono viste le virgo e altre cose eccetera eccetera ok avete commenti particolari sul testo? vediamo uh fa' fa cerchiamo dov'è il fa' fa all'inizio immagino perché ho un commento tra i primi abbassa torcia il lumo la sposta dentro il muro ho visto le macchine mi sa che devo fare trova dov'è il trova? find eccolo qui aggiusto ci dire le più F ovvio ok find fa' fa' Mario fa' attenzione farmi farmi scaffali scaffali fatte ma questo è l'altro brano niente apparentemente non vedo i due fa' fa' ripetuti rapidamente fa' attenzione farmi bah non capisco il senso di quel commento evidentemente o non lo aveva o boh decisamente di qualità milione cosa sistemare la punteggiatura il ritmo delle frasi sì e magari mettere anche del conflitto magari beh anche lasciate chiamarli Mario e Luigi visto il significato della cosa è un problema perché sembra che stiamo dentro Super Mario con tutti i problemi di sfotto automatici che vengono in mente anche qui l'autore non è stato furbo Monica dice un gradino come la temperatura che vuol dire boh questo tizio apparentemente ha il potere sovrannaturale di scendere la temperatura come scende i gradini interessante in realtà sarebbe anche interessante se fosse vero perché il testo non parla di questo immagina una persona che ogni volta che scende di un gradino abbassa la temperatura immagina questa persona la temperatura proprio dell'ambiente intorno a lui può ovviamente arraggiare più le distanze da lui più la temperatura sale ok quindi immagina che lui viene rapito e collocato al quinto piano di un palazzo ogni gradino è un grado ok quando lui scende di quota abbassa la temperatura se lo fa coscientemente quindi se prende l'ascensore come scendere i gradini mettiamo che siano gradini alti quant'è alto un gradino 25 centimetri facciamo che siano 25 centimetri per semplicità 4 gradini al metro 3 metri al piano ogni piano che scende sono 12 gradi lo portano al quinto piano la temperatura esterna se lui non la modificasse magicamente attorno al suo corpo sarebbe di 20 gradi lui arriva a 8 gradi all'arrivo del quarto piano meno 4 all'arrivo del terzo piano meno 16 al secondo meno 28 al primo rischia di morire probabilmente scendendo a piano terra esatto è un potere magico dove tipo per uccidere la persona basta portarla abbastanza in alto quindi lui quando sali i gradini non è che alza la temperatura ma quando scende gli abbassa tono a sé quindi il suo unico modo che ha per scendere è essere tipo narcotizzato addormentato in modo che venga fatto scendere senza che lui ne sia cosciente lo faccia apposta e in questo modo lui non innesca il suo potere che è un potere tipo un potere cinetico per cui quando lui si muove e appositamente scende a scendere la temperatura bene vi ho dato uno spunto fantastico più interessante di quello delle idee di tanti autori che vedo in giro non ci si farebbe un romanzo probabilmente però un racconto anche abbastanza scemo lo potete fare c'è un doppio spazio grazie Gabriele ma tanto qui non entriamo su queste finezze così tanto però hai fatto bene a segnalarlo vale la pena ecco quando diventa una cosa iper ripetuta c'è una volta lo spazio è mancante quei tre puntini me ne frego diventa un continuo vuol dire la persona non sa gestirli poi giustamente fa notare che o giacciono o collassano in effetti oppure possono giacere già collassati uno sopra l'altro già crollati però boh anche io farei accatastati che giacciono cioè boh Maurizio chiede se lo scaffale gay non lo so ma spero di sì ah no perché avevo la cosa no no era una battuta sull'attribuzione di gender cioè magari lo scaffale etero però si visualizza femminile è un suo diritto per quanto sia il fatto che sia a suo diritto volere i pronomi in un certo modo non vuol dire che gli altri siano tenuti essere schiavi della sua scelta questo poi è un passaggio che in la community lgbt non hanno fatto che il diritto a identificarsi non è un diritto a essere identificati però questo è un discorso un po' raffinato sui doverismi e su che cos'è la sanità mentale per esempio buona parte delle discussioni che le persone ritengono progressiste in realtà sono malattie mentali quando le affrontate con l'ottica cognitivo comportamentale provate a inquadrare nella lista dei doverismi che rovinò la vita le varie cose che sentite dire in certi movimenti progressisti è tutta roba che Albert Ellis curava negli anni 50 signori ok Monica dice molte micro azioni ma se non mi fai capire il perché sta nella cantina brava Monica esatto poi un quarto dura circa dopo che tu hai fatto questo commento ne abbiamo parlato e sì ah l'Ubra l'Ubra 17 era ancora al ciccione sì l'ex obeso lo puoi fare magari non vestito ma in costume o in mutande con le smagliature con la pelle eccedente eccetera eccetera bene è un ottimo consiglio l'Ubra mi piace è più bello rispetto alla maglietta gigante certo che così fai una copertina di quello un po' da vomito cioè ti fai il tipo che ha una valanga di pelle in eccedenza fa un po' schifo da vedere magari non vendi la rivista però se è una rivista medica arrivi in abbonamento e non devi convincere nessuno a comprarle in una vitrina espositiva ci può anche stare è sicuramente un consiglio più rapido e comprensibile rispetto al mio quindi molto bravo l'Ubra vedi com'è semplice autore del primo testo vista da Falco per vedere la decomposizione degli insetti su soffitto ma sai certe volte vedi quegli insetti che sono palesimerte morti da un pezzo no? perché tipo sono ragnaterie abbandonate quindi anche quegli insetti ovviamente c'è affitta chissà quando poi si capisco che non si notano granché ho avuto una mosca morta che ho tenuto apposta su un angolo di un davanzale per vedere volevo scoprire che sarebbe accaduto non è accaduto niente l'ho tenuta lì tipo due settimane era sempre quella a se stessa cioè ho avuto veramente un microscopio per capire che stava accadendo e poi niente poi l'ho spazzata via buttata come anche quando trovi i ragni morti e ragnateli tipo quelli con le gambe lunghe li guardi come si chiamano quei tipi di ragni lì? vabbè tu li guardi e dici ma sto qua è morto da un giorno o da due mesi perché veramente sembrano sempre uguali Maurizio dice una lampadina non pende da una corda a quanto pare tu di lock industrial fai un salto a Merlin vai nella zona industriale trovi le lampadine camuffate da corda e dalla corda cioè i lampadari camuffati da corda e dalla corda nasce la lampadina intanto vanno anche molto di moda quindi nella zona con il look industriale trovi parecchi di questi giochini della corda la cui spunta la lampadina la funnia la cui spunta la lampadina molto sconnesso un braccio con la B poi ci sono anche le lampadine semplicemente magari agganciate o annodate quindi hai la roba che fa da rinforzo e il filo in pratica c'è un solo aggancio la corda che pende come se fosse un lampadario e poi il filo che si aggancia la corda in modo da non pesare direttamente a lampadina morta perché uno dice non voglio stressare l'impianto eccetera eccetera e la corda fa da lampadario qui non capisco il tuo problema perché le lampadine non solo pendono le corde regolarmente ma concettualmente è anche una cosa corretta a fare l'avambraccio con la M grazie avevo il dubbio corretto Martina pieni di virgole pieni di troppo lunghi eccetera capisco che voglio mostrare cicatrici sul braccio ma sentire il battito della pelle inspessita è più complicato magari magari può legare la cicatrice a un ricordo sì meglio meglio o direttamente la cicatrice non serve o direttamente semplicemente taglia accanto alle altre cicatrici questo ci comunica che è abituato a farsi dei tagli per il cazzo di rito che sta facendo il riflesso che la cieca si sembra un bruttissimo anime un brutto anime progettato male con questi riflessi che accecano e poi con la lama di un coltellino io capisco se fosse uno specchio anche grosso uno specchio tipo di quelli da viso c'è anche un tipo di combattimento dove si duellava con la spada e uno specchio ovviamente forte luce solare pieno giorno proprio luce a palla non una lampadina che fa una luce da merda la torcia che fa la luce del cazzo proprio bello pesante e lì cercavamo di accecarsi col riflesso ed è un tipo di duello che non mi ricordo dove cazzo l'ho letto dove cazzo l'ho sentito ma è una cosa che ho sentito i giorni scorsi beccato non mi ricordo per che motivo forse me ne ha parlato un amico forse sì può essere esatto contesto cassamento illuminato ha poco senso se ta 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 madonna quanti commenti ne salto un po' ecco Luigi appare e poi scompara a caso così accendo inutile e poi scomparso il testo stava meglio senza metterlo tant'è che viene messo per fare una frase che non ha un significato tra l'altro ecco non sappiamo se sta per suicidarsi sta per fare un qualcosa che richiede un taglio e forse questo taglio di innesco quindi sta per fare un reto magico che richiede del sangue non lo so però no non viene detto che sta per suicidarsi tra l'altro Luigi lo sta mandando la sotto doveva andarci lui dubito che facesse solo il turno del tipo il vice del capo si suicida per prima e poi mi suicidio io in una pagina non si capisce cerchi fantasmi se vuole evocare il demonio rubare donare il sangue a popolazione di zanzare scopo di azione non pervenuto brava Monica scendo di scalina ogni passo che faccio la temperatura si abbassa è un pensiero un pensiero corretto che non serve neanche che lo deduca da qualcosa semplicemente lui sente freddo poi non è che scende un grado a gradino semplicemente sta scendendo e si accorge che l'ambiente è più fresco dell'altro nella sua mente l'esagera con ogni passo ogni gradino che scendo a temperatura si abbassa è un'esagerazione ma sta bene è un pensiero fatto così va bene il proprietario è l'affitto della sindrome dell'accumulo compulsivo ok che poi ricordiamoci che ha solo una torcia ha zigzagato per tutta la parete per vedere il contenuto esatto avrei messo solo un paio di cose le prime che illumina si avrei fatto l'elenco che vi ho detto poi di una torcia non vuol dire che il fascio sia per forza piccolo le tante torci hanno una grande dispersione quindi se gli scaffali sono una parete un po' distante metti anche che è una camera non grande facciamo che hai soltanto comunque non è un ambiente minuscolo dammi 4 metri una camera non grande ma neanche minuscolo non 3 metri dammi le 4 a 4 metri una torcia che non faccia proprio la cosa iper non focalizzata insomma che disperde poco se fa una dispersione normale probabilmente avrai già probabilmente un tondo dal mezzo metro al metro di illuminazione cioè fai abbastanza in fretta illuminare tutto ok fosse stata addirittura la torcia di un smartphone lì delirio cioè si spalanca subito la luce sono abbastanza abituato perché nel nuovo pentalocale in cui vivo a certe volte non mi va di accendere luce in corridoio di notte perché abbiamo le porte con i vetri e quindi non voglio disturbare e allora se sto lavorando e devo andare magari uso lo smartphone con la torcia per non accendere i lampadari del corridoio quindi sono abbastanza abituato al fatto che sia molto molto diffusa la luce dello smartphone però lì è una torcia quindi magari sarà meno diffusa ma comunque non è puntiforme non è un milino laser ci sono delle torce da combattimento delle torce interessanti che hanno un raggio più piccolo non mi ricordo i dettagli però appunto non è sbagliato che veda una buona quantità di cose poi comunque sottinteso visto che sta scandagliando gli scaffali sto muovendo la luce ok l'immagine può anche variare o la trovo come flash che svanisce subito ah quindi comunque ok non è una forma di problema in cui proprio non si forma alcuna immagine si forma una vaga immagine o una per un attimo e poi svanisce ok non è proprio zero zero la capacità di visualizzare immagini ok ok grazie grazie Gumming grazie devo dire però che il corso mi sta aiutando e sono contento di uscire a far vedere immagini agli altri anche se ho fatica a vederle è comunque gratificante beh faticare a vederle è molto meglio che non poterle proprio vedere quindi dai pensavo che fosse più grave il problema meno male l'elenco di cose negli scatoni è occasione mancata ed era una collocazione temporale e pietà del protagonista ci metti un gioco da tavolo molto noto e poi mi si dice ci giocavo vent'anni fa è solo che questa è una cantina abbandonata di un posto che palesemente non è casa sua l'agenzia ha avuto culo a trovarla la cantina l'agenzia ha avuto culo a trovare la mia cantina suonerebbe un po' strana come cosa sa vi consiglio posso appuntamento su youtube se intendi le live sono il martedì sera forse cambierò data in futuro per ora non c'ho sbatta non c'ho voglia va bene così invece i video normali il prossimo è giovedì credo alle due devo ancora caricarlo ce l'ho la settimana scorsa ma devo caricarlo io non ho capito cosa volevo raccontare neanch'io buonasera ho il termostato nelle ginocchia per regola a temperatura che mi lamento ah ok ok va bene Lady Isomar Isomar scusa Isomar diventava la cosa per il naso va bene ok te non ti ho mai beccato te qualunque sia il te tipo se ti identifichi come una caccia torpediniera oppure come una petroliera oppure come un condominio qualunque cosa tu sia non ti avevo mai beccato beccata beccat beccaccio primo video che vedi o mi seguivi già idem per Savi Official Music è il primo video che vedi e ti sei magicamente innamorato dell'analisi o mi seguivi già e semplicemente col fatto che è un pezzo che non facevo le live e il dubbio su quando le facciamo ok il regno cristallizzato di bianco tipo orribile vista ah giusto è vero c'è anche quell'opzione per fare gli regno si chiamano qui sono le tegenarie quelle ok figo ricordavo vagamente un nome diverso ah sì no poi c'è anche l'altra opzione no vabbè no l'altra opzione non ce ne sono no le cose lampadane in stile industriale mi piacciono molto non so se poi ne comprerò mai per il quadrilocale però mi piacciono mi saccherò sul semplice però per il salotto ero tentato di un qualcosa in stile industriale anche eventualmente quelli con le funi me lo ci penserò ci penserò se ne vale la pena ma poi si punta la torcia apposta su effettivamente gumming è un po' difficile farsi quel riflesso negli occhi se non apposta perché lui sto coso boh cioè non si capisce ok buonanotte ara cicastra praticamente lui non avverte vibrazioni se non esco allora tagliarsi il polso da quello che ho capito ma non porta a niente guarda io non ci ho capito manco questo so che non avverte vibrazioni sta cosa l'innesco l'ho rimossa immagino che si tagliarsi il polso ma non ci ho capito veramente niente neanch'io ah prima era più invalidante quindi è variata quindi non è un problema cioè è un problema che si può modificare forse con l'esercizio no volevo volevo chiedertelo perché se ti ricordi io ho parlato una volta di quando stavo leggendo ora non c'ho quasi più ricordi dove guardare gli appunti quel libro di oddio di chi era lo scopritore sbarra quello famoso per l'intelligenza emotiva come si chiama così giusto non mi ricordo più quando ha scritto quel libro dedicato a quelle giornate di conferenze per il Dalai Lama mi viene in mente il suo nome è un voto di memoria e a un certo punto parlavano del fatto che i monaci buddisti vengono addestrati a essere in grado di avere un'immaginazione sempre più forte fino a quando possono visualizzare nella propria mente oggetti identici a quelli reali quindi chiudono gli occhi immaginano e quello che vedono è indistinguibile dalla realtà e possono manipolarli eccetera come capita ad alcune persone quelle che come viene detto quelle che sono a scada una dieci hanno un'immaginazione a dieci che possono vedere come completamente reali indistinguibili dalla realtà visiva si intende e muovere manipolando gli oggetti anche estremamente complessi tridimensionali che per me deve essere una capacità assolutamente assurda immagina poter vedere come se fosse vera qualunque cosa a piacere a fatto di avere in dettaglio ovviamente di conoscerla è una cosa fighissima e lì appunto spiegavano questa cosa che per la medicina occidentale si riteneva che l'immaginazione quindi incluso chi ha un disturbo sull'immaginare cioè non sull'immaginare che è sbagliato sul creare immagini ecco perché l'immaginazione c'è ma non creiamo le immagini che allora sia risolvibile perché se c'è un minimo vuol dire che è anche addestrabile perché monaci buddhisti hanno dimostrato l'addestrabilità quindi diventa infatti volevo solo insegnare altro per capire se puoi indagare il tipo di esercizi che fanno o magari leggertelo e vedere se dà un'altra indicazione perché ho un voto di memoria e capire se puoi trarre un qualcosa di pratico per appunto migliorare la tua condizione se appunto eri in grado almeno di immaginare di visualizzare un qualche tipo di immagine se stai proprio a zero o no però adesso che mi hai risposto e mi hai scordato di scriverti avevo subito pensato a te in pratica e niente ti lascio l'idea trova tu che libro era o se non lo trovi mi scrivi è quello dell'intelligenza emotiva mi ha fatto una tema dalle lama in cui parla di queste cose manca anche un accendo di sensazione olfattiva che se è una soffitta vecchia bravo le sensazioni olfattive bravissimo l'ubra d'altro abbiamo parlato spesso delle sensazioni olfattive e delle cose in generale multisensoriali tatto olfatto eccetera nella strip delle ossa nell'analisi dei capitoli quindi quelle prime seorette che voi non avete ancora ma poi vi arrivano cioè chi ha comprato vi arriva bravissimo l'ubra comunque era proprio la cosa che mancava da sottolineare bravo mi sono penetrata qui guardo sui video perché sono poraccio mi sono penetrata qui bene è subito pornam quali potrebbero essere le prime frasi per iniziare un romanzo una base da cui partire sì va bene pro games l'ideale è un qualcosa che ci collochi in un luogo in modo che possiamo cominciare a visualizzare uno scenario uno sfondo per esempio comunque ottima idea perché lo si può usare per un video per esempio come inizia sangue del mio sangue appoggio la mano sulla parete e spingo non si muove ostruisce con precisione la galleria e sale nell'oscurità l'intonaco che la doveva mimetizzare con il resto della catacomba si è arricciata a causa dell'umidità pezzi grossi quanto il palmo di una mano si sono staccati poso lo zanetto sul pavimento c'è tutto appoggio la mano sulla parete e spingo vedete non si muove ostruisce con precisione la galleria e sale nell'oscurità l'intonaco arricciato pezzi staccati e poi che cos'era con il resto della catacomba il resto della catacomba che ne ha verso una stampa e sulla terza riga uno due tre quattro quattro righe e mezza stampa nel formato libro di sangue del mio sangue e abbiamo subito che è in una catacomba nella galleria della catatomba che in generale è buia a parte dove lei sta illuminando e che le pareti hanno perso l'intonaco perfetto così si comincia ovviamente ogni caso è diverso ma per dire un inizio simile venezia metal venezia metal e poi ti faccio anche la strippa delle ossa qui invece di concentrarci sull'aspetto della stanza su oggetti che evocano la stanza giro il rubinetto e il flusso di acqua calda si interrompe la vasca da bagno è piena mi inginocchio accanto al bordo di ceramica e immergo un panno morbido lo strizzolo passo sul corpo della chitarra di mio fratello una ebanex experience nella satinata e visce la cosparsa di bava di satana subito siamo in un bagno rubinetto vasca da bagno quindi un bagno non abbiamo parlato delle sue pareti come la naca tacomba è un bagno fine è un bagno di un appartamento è un bagno di del retro camerini del backstage di un locale può essere non è importante può essere un bagno rimaniamo distratti fino a quando poco dopo scopriamo che sta pulendo che sta pulendo gli strumenti musicali e sono nel sono nei camerini del locale ma veniamo distratti quanto basta quindi partiamo con un bagno subito visivo dettagli concreti che evocano il bagno prima erano dettagli concreti che ci parlano espressamente di una catacomba qui dettagli concreti che evocano il concetto di essere in un bagno in qualsiasi bagno di un appartamento in bagno abbinato di camerini eccetera eccetera la stirpe delle ossa so bene come sono fatte viscide e nere già all'inizio un po' diverso si concentra su una fase freddo so bene come sono fatte viscide e nere ma non mi fanno paura cosa saranno mai mi inginocchio sulla sponda melmosa e infilo la mano nell'acqua e fredda tattile la fanghiglia che galleggia in superficie si appiccica la pelle sempre tattile ma anche visivo fanghiglia in superficie artiglio il fondo viscito e tiro fuori una manciata di terra bagnata niente neanche stavolta non una sola sanguisuga in tutta la palude ecco cos'erano vicine nere ma non mi fanno paura di sanguisuga ancora diverso ma cosa abbiamo subito creato nelle prime cinque righe il luogo è in una palude e apparentemente sta cercando sanguisuga ho risposto abbastanza cancelletto pro games spazio cancelletto ah gammig mi capitano in meditazione e vedi la luce del sole e aprendo gli occhi e abbi le macchie come se fossi messa davvero breh questo è bello tra l'altro il focalizzarsi sul vedere la luce quando sono al buio completo per dormire quindi riuscire a immaginare nell'appropriamento una luce intensa totalmente bianca mentre in realtà sapissi gli occhi è tutto nero è un trucco che mi aiuta che mi ha aiutato diverse volte a focalizzarmi sul voler visualizzare meglio e mi ha aiutato a fare dei sogni che non dico dei sogni lucidi ma dei sogni che erano totalmente indistinguibili da realtà nel minimo dettaglio in cui avevo abbastanza margine quasi sogno lucido per modificare le cose e mantenere una coerenza interna e anche delle cose che volevo mi è capitata un'esperienza veramente figa su questo tema di durata di poco poi non si divina il tempo del sogno perché tante volte i sogni magari durano pochi secondi e sembra durare di più sempre come stiamo leggendo a metropolitana ma mi è capitata una versione molto figa tipo fantasy classico però cialtronesco ma dove proprio potevo controllare quello che volevo vedere le cose apparivano quando me le chiamavo nella mente dormendo non un anno fa meno circa un sei mesi fa non sono più riuscito a riplecarla così bene ma mi ci avvicino e partendo con l'esercizio di visualizzare una luce molto bianca a quel punto è un ponte sia per avere delle immagini più dettagliate subito dopo sia mi favorisce la possibilità di avere dei sogni più simili anche se appunto non ci arrivo ancora a dei sogni lucidi o come cavolo si chiamano quelli in cui hai molto controllo sulla vicenda e sembrano molto più reali di altre volte non mi ricordo i nomi ti seguo da poco vorrei imparare a scrivere in maniera chiara appunto un romanzo ok quindi va bene la narrativa immersiva se volevi scrivere altro ti avrei detto che la narrativa immersiva non va bene e ti avrei mandato su altri lidi cioè a livello teorico ti avrei detto di imparare cose diverse però se vuoi fare un romanzo quindi narrativa va bene l'approccio immersivo mi sembra molto credibile fosse l'unico su questa piattaforma che possa insegnare qualcosa a qualcuno come me voglio che è un bel complimento considerando che è molto più facile trovare i video di altri formatori anche italiani che non i miei quindi grazie ah grazie Alessandra Goleman sì grazie grazie mille grazie Davide Daniel Goleman grazie grazie ottima presentazione preferivo la versione dove era subito Pornhub è stato bello la prossima grazie Polli buona settimana tra l'altro abbiamo ci siamo visti a strani mondi abbiamo avuto neanche tempo di chiacchierare vabbè eri con altre persone quindi adoro la tecnica del debito di informazione inutile dire che nell'estratto letta tratto dalla stripper le osse è usata alla perfezione vero è la prima volta che l'abbiamo fatta apposta inizio romanzo adesso ci stiamo un pochino più attenti a queste cose soprattutto di farla come prima fase e non come prima frase non come la bava di satana che appariva a fine del primo capoverso sì fino al capoverso ma adesso vogliamo sperimentarla e usarla di più non sarà sul prossimo romanzo che un recupero o almeno che non ci venga in mente qualcosa ma ci stiamo pensando bene sono piccole ottimizzazioni che vanno oltre la scrittura immersiva ma che un po' alla volta stiamo introducendo questa cosa visualizzare nel buio mi ha eccitato anche in Misery dove poi tenere spunto le cose che mi hanno si giochi col braccio oh ok diciamo che ero anche incentivata da una camomilla ma dettagli ok poi me ne parlerai in privato magari risposta chiarissima grazie mille la posa di visualizzare immagini tempo fa mi riuscivo in meditazione un po' meno adesso di mio è una forte fantasia in cui viaggio mentalmente in pochi secondi eh sei fortunato io l'ho detto nella scala da 1 a 10 quando ho provato a darmi un voto per me probabilmente la mia capacità di visualizzare è un 3 scarso perché tante volte quando visualizzo vedo sagome per vedere i dettagli mi devo concentrare tendenzialmente lo sfondo è nero e e per vedere i colori comunque come se il colore fosse montato su una base nera non è bello ti assicuro che invidio molto quelli che possono onestamente onestamente dirsi di avere un 6 o un 7 su 10 in visualizzazione immagini per cui anche a me non mi dispiacerebbe imparare la mindfulness l'ho fatta avevo un libro ho fatto i primi esercizi meditativi piaceremo molto quelli di concentrazione sul corpo in effetti è una figata soprattutto sul controllo della rabbia per esempio di altre cose veramente figo ciao Giorgia Savi dice è meglio scrivere in terzo oppure in prima guarda te lo dico in modo chiaro a livello di effetto sul lettore la terza persona può essere bella e fatta bene quanto la prima ho un esempio ho un mio autore di cui non posso fare il nome c'è un autore che ha studiato da me e fa anche consulenze private ne abbiamo fatte credo 7-8 fino adesso forse 7 e l'ottava e l'ottava è a fine mese quindi un sacco di consulenze ha tutti i miei corsi eccetera eccetera che ha un contratto con per una una trilogia con una grande casa editrice vabbè con la Mondadori tanto se non vi dico chi è chi se ne frega e lui è una scrittura in terza persona fantastica non voleva scrivere in terza voleva scrivere in prima ma si è adattato perché aveva il progetto che era stato selezionato la Mondadori era in terza e adesso che lo stava riscrivendo in modo perfetto lo voleva rifare mantenendo la terza giustamente avendolo proposto così e quindi si è obbligato a scrivere in terza pur volendo scrivere in prima e ha fatto una terza meravigliosa la più bella come hai visto e infatti voglio citarlo nelle nuove lezioni dedicate alla terza persona del corso avanzato quindi la risposta è che la terza è più difficile da fare per te come autore tante volte la perceperei come una tortura anche perché per fare immersione narrativa tu devi concepire tutto in prima e poi devi tradurre in terza con una serie di difficoltà che ho già trattato ampiamente nell'articolo che già parla della difficoltà e differenza tra prima e terza persona e quindi neanche non devi neanche aspettare per dire se compri il corso avanzato vabbè che adesso è chiuso però ho parlato per quelli che hanno saltato l'offerta di giugno luglio che possono chiedere in ufficio ancora per qualche giorno e vi facciamo lo stesso pacchetto dicevo c'è già una lezione quindi non devi neanche aspettare le lezioni nuove che sto realizzando in queste settimane per l'espansione e già in quella spiego esattamente i dettagli della difficoltà e quali sono le difficoltà a cui badare ok per il risultato se tu la fai perfetta la terza persona è bella come la prima praticamente indistinguibile proprio perché le difficoltà sono quelle che servono a non avere cose che renderebbero goffa e brutta la scrittura immersiva quindi quando le togli ottieni una scrittura immersiva solida come in prima persona ma la fatica che hai fatta è il doppio il triplo il quintuplo Giuseppe Menconi che è stato il primo autore di quelli veramente bravi ed è l'autore del sangue del mio sangue Giuseppe Menconi lui per esempio adesso mettiamo un attimo uno schermo intero per esempio ha fatto una fatica boia con la terza persona per una sua serie fantasy che poi non abbiamo mai pubblicato non abbiamo mai terminato i lavori ci torneremo in futuro e poi vedremo cosa farne cioè verrà pubblicata ma non so dirvi se con A che non si è autopubblicata se è proposta a un grande editore non lo sappiamo è secondo me una saga fantasy che potrebbe benissimo essere presa da un grande editore soprattutto cosa pubblicano in questi anni come tipo come cosa intendo dark fantasy green dark cose così e lui veramente mi diceva è stata una tortura cioè che si faceva dieci volte la fatica ok signori però se tu riesci a tollerare la fatica maggiore impari a farlo come questo mio corsista di cui non posso fare il nome per motivi di privacy ma lo potrò fare tra un annetto quando uscirà il primo romanzo della serie eccetera eccetera e allora per il lettore è uguale primo terza poi ci sono sempre più lettori che si stanno abituando alla prima e che quindi potrebbero trovare un po' fastidiosa la terza normale il fatto che il mondo si sia ribaltato negli ultimi 3-4 anni e prima la questione era siamo abituati a leggere in terza e magari abbiamo qualche difficoltà con la prima è diventato l'opposto trovate semplicemente se avete un po' di esperienza con gruppi di lettori recensioni su Amazon ormai le recensioni degli ultimi anni magari se andate a recensioni 2007 2008 2010 su Amazon ovviamente dal 2011 in poi perché prima non c'era trovate spesso magari quello che dice soprattutto sui fantasy sulla fantascienza perché era pari merito pubblicata prima e terza persona ma sul fantasy venivano tradotti apposta libri in terza perché gli editori pensavano che gli autori non volessero la prima perché portavano sempre la terza cagate che ho spiegato anche nel corso avanzato lì poteva capitare il commento di persone non abituate alla prima che magari dicevano molto figa la prima persona ma non c'era abituato ok adesso trovate all'opposto molto raramente commenti di persone che criticano la prima e dicono che sono abituati alla terza o che è un terza persona trovate invece abbastanza continuamente esempi di persone che criticano la terza e vorrebbero la prima e soprattutto la cosa interessante è che quando erano commenti contro la prima a favore della terza erano commenti senza aspetti tecnici mentre invece tante volte adesso le persone che criticano la terza entrano abbastanza in dettaglio sul fatto che la terza li blocca nell'immedesimazione altre cose cioè si vede che è un pubblico anche un po' più raffinato è un pubblico che è entrato un pochino più nei meccanismi di come si legge e come si scrive e quindi quando la cosa non è fatta in modo perfetto ne sente un po' il peso e tante volte la terza favorisce lo scrivere male perché è più difficile signori ok pensatela così immaginate una pozzanghera di un metro immaginate una pozzanghera di tre metri quella di tre metri favorisce il fare il salto in lungo male perché tu sei lì fermo devi fare il salto in lungo da fermo e magari un metro ce la fai tre metri no ok però ovviamente se tu la salti quella a tre metri bene come quella da uno cioè la superi è andata bravo ok capisci bene la cosa che mi piacerebbe fare è mettere per scritto tutto quello che immagino vedo in modo da trasmetterlo sì ok se ha anche un significato narrativo quindi conflitto altre cose è narrativa quindi se sei in direzione di voler fare narrativa anche tu vediamo cosa avevi scritto sì hai una forte immaginazione penso che potessi avere piacere a strutturare delle storie la tua immaginazione in storie strutturate secondo significato narrativo e quindi fare della narrativa scritta potrebbe essere una buona idea ok bene signori abbiamo superato le due ore e vorrei più possibile evitare di farlo quindi visto che l'abbiamo superata direi che possiamo stoppare qui guardo giusto un attimo ultime due domande e poi stoppiamo penso che per scrivere bene in terza in maniera immersiva sia necessario scrivere bene in prima è vero ti forza a scrivere più immersiva anche involontariamente eviti focalizzazione zero o esterna sì poi io non uso questi termini però per chi sa cosa vogliono dire esatto è giusto poi comunque ve l'ho detto l'immedesimazione immersione vuol dire essere nel personaggio anche se tu poi magari tradurrai con la terza persona tu devi vivere tutto in prima se tu non la vidi in prima se tu la vidi in terza fare una valanga di errori è il trucco per scrivere una grande terza persona e viverla in prima persona il modo più facile per fare tutti gli errori tipici della terza persona è vedere i personaggi da fuori signori ok poi non vi importa come il pubblico li vedrà c'è chi immagina i personaggi in terza anche leggendo in prima e c'è chi immagina in prima leggendo in terza io il romanzo di quel corsista scritto tutto in terza ma figa è una terza identica a una prima cioè proprio fatta alla perfezione io sono completamente nel personaggio e lo vedo da dentro quasi sempre non lo vedo da fuori eppure è una terza perché terza non vuol dire fuori terza vuol dire egli cioè terza persona vuol dire semplicemente usare egli invece di io non altri connotati magici o altre cose signori chiaro? bene quindi sì ottimo consiglio rubra 17 molto bravo anche tu sei nuovo sbaglio non mi ricordo i tuoi commenti comunque molto molto bravo ok ciao Savio buonanotte ciao Gumming cerca quel libro di Goleman e se trovi modi per aumentare la tua capacità di vedere immagini per favore condividili con me perché sono molto interessato anch'io visto che insomma non è che siamo nella stessa barca però anch'io ho dei problemini è la Monster Ultra White signora un bel po' che non c'è bene buonasera buona giornata buonanotte eccetera eccetera a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti